POD SCRIPTUM Il PODCAST O PODCAST Il PODCAST O PODCAST No, il PODCAST Eh, o PODCAST No Raffaele facciamo figuracce, lo devi dire bene, dillo insieme a me POD SCRIPTUM Il PODCAST O PODCAST Eh già, però loro non capisce, facciamo sempre questo, Raffaele, ogni volta che mi sei Ma ogni volta mi fai dire le stesse cose, non ti sopporto in più Ma lo attento, Raffaele, basta, mi hai rotto le pade E basta, fai sempre questo Mi sono rotto i coglioni di averti accanto Vattene, fai un'altra pottica O faranno pochi esagerati Eccoci qua Siamo partiti in live Partiti, partiti Siamo partiti in live E questa sera con noi c'è ospite No, non si sente, manca a te Però secondo me si sente dall'altra Fa scena, fa scena Eh, la gatta è innamorata Ma lo vogliamo presentare l'ospite Allora, ovviamente ragazzi Siamo settima puntata di PODDISCRITTO Benvenuti PODDASCOLTATORI 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 No, l'hai inventato tu, si può dire Non rivendico il PODDASCOLTATORI Siamo qui stasera con Mariano Grillo Buonasera E Tone Tonello E Tonello che purtroppo ci sta sempre Ma facciamo La senti? Oh, si sente la parola Eh È la voce nostra Perché l'applauso è scrosciante La tua voce no La tua voce è fastidiosa No, però si dovrebbe sentire Perché da quello che vedo Vedi l'audio Ma magari appena ci saranno gli ascoltatori Ci diranno Però le altre volte si sentiva Anche da fuori A posto Siamo a posto Bau bau Già ha cominciato Ferdinando Allora Allora signori Anzitutto Buonasera Grazie Mariano Per essere qui con noi Grazie per la tua disponibilità A disposizione Vuoi fare una breve introduzione Su chi sei Chi sei Ma anche no Cioè Però la La hit Cioè Mariano Chi sono Già lo sapete Diciamo come Il tuo percorso Mettiamo La solita cosa Iniziale Il percorso No, la cosa bella È che Quando mi guardo Mi sento un po' in soggezione Vabbè Sarà la nuvola nera Di Pifandozzi No, è niente Io Da dove si parte Da dove si parte Si parte dal teatro Perché ovviamente Io parto da lì E ho cominciato piccolissimo All'età di Dieci Undici anni Grazie a mio padre Perché mio padre Aveva una compagnia Cioè Ancora una compagnia amatoriale Dice Ma così E Organizzava spettacoli Quindi in uno di questi spettacoli All'epoca Serviva un bambino E papà Dice Io lo tengo Creature Sfruttiamola Ci fatti a posto Stavart E quindi da lì Poi sono partite Le varie cose Mi è piaciuta Questa situazione E quindi poi L'ho continuata Sempre con tante difficoltà Perché lo sai Oggi Soprattutto oggi Ma anche ieri Non è che cose erano diverse Però Sono sempre state difficili Perché il mondo dell'arte Il mondo dello spettacolo È molto particolare Diciamo così Però poi l'ho portata avanti E E via Insomma Poi sono arrivati I risultati Sono arrivate le cose Un pochino più Importanti E dopo Quindi mi sono Dovuto staccare Un po' da quel mondo Tra virgolette Amatoriale Ma Io dico che Il teatro amatoriale Lo dice la parola Cioè Per chi ama Il teatro E io l'ho fatto così Cioè con il cuore Con amore Lo faccio ancora oggi Con il cuore Perché Spesse volte Ti capita una situazione Che tu fai solo il cuore E no per sorte Quindi La parola visibilità Esatto Sì sì Chiamiamola così A volte si sperimentano Delle cose Quindi è sempre buono Comunque Confrontarsi Esatto Con un pubblico Fare Io la spuso Come idea Cioè per me La prima cosa È fare Poi Tante cose Le si possono scartare Tante cose devono essere buone Alcune Meno bene E ovviamente Le vai a limare Le vai a lavorare Che serve Tutto all'inizio Di un percorso artistico Bisogna fare Sì A volte pure Se non c'è guadagno Eh Però comunque All'inizio Tutto serve Per fare esperienza Certo Perché da volte È meglio sbagliare Senza Nessuna Eh Dicima Come dire Nulla a pretendere Certo Certo Tu comunque ti proponi Eh Senza budget All'inizio Certo No ma spesso Io ti dico questa cosa Che a me forse Non è capitato Che non è che voglio Parla male Per chi lo fa Però Eh A me è capitato Un percorso Forse inverso A quello ecco Dell'accademia Perché sta cosa dico Perché Io dico sempre Che il teatro Io l'ho fatto Prima praticamente E poi mi sono accorto Studiandolo Teoricamente Che la pratica Era giusto Come la facevi Cioè È un percorso Un po' particolare Invece molti Che giustamente Si avvicinano A questo mondo Partendo da un'accademia Da queste scuole Di teatro Io Se posso Con la mia Umiltà Ovviamente Insegnare Non tanto insegnare Ma tramandare qualcosa Ai giovani O a chi si avvicina Al teatro Tramite queste scuole Queste accademie È quello che Di poi Uscire da quell'accademia Con la stessa umiltà Con cui si è entrati Cioè Se si entra Per imparare Per capire un mondo Poi non è che Quando finisce l'anno Quando finiscono Quei tre anni Tu È un po' come L'università Per un qualsiasi lavoro Tu lo studi Quella Quella materia O ragioniere Vabbè Non esiste Ma anche più O ragioniere L'ingegnere O commerciale L'ingegnere Studia Per cinque anni Quella cosa Proprio di Rocinio Tutta la trafila Eccetera eccetera Ma non è che Come piglia O posti di fatica Già Gli fanno costruire Un stadio Maradona Lo capo Cioè In essenza Ci vuole Quello Lumentare Dice Vabbè Ravoriamo In un gruppo Di persone Con altri ingegneri Eccetera eccetera La stessa cosa Ti capita anche A teatro Io Questo è quello Che mi piacerebbe Dire A più voci Proprio ai ragazzi Ai giovani A chi si avvicina Al teatro Esatto Perché Molte accademie O comunque scuole di teatro In questo caso Accademie cinematografica E queste cose Qua Penso Un buon Sessanta Settanta Per cento E fuffa Sì Oggi Vabbè Oggi Io ti dico La verità Io quando sono partito Tengo trentasei anni Non è che Tengo trentasei anni Allora Quando sono partito Ovviamente Ho visto questo mondo Come dire Da Non dico La creatura Però proprio Come un Sognatore Sai Come un bimbo Che sognava Insomma Di arrivare A dei risultati Oggi invece Vedo Molte accademie Vedo Molte scuole di cinema Per esempio Che a volte In passato Mi ricordo Mi è capitato Anche di Non dico frequentare Però di avvicinarmi O per un motivo O per un altro E lì notavo Quello che dici tu Che Spesso Purtroppo Far strano Dire questa cosa Non mi voglio Inimicare con nessuno Però A volte si pensa Forse più A spellare soldi Dalla tasca Di ragazzi Che a insegnarti Di veramente qualcosa Oppure Si insegna Tipo il 10% Di quello che si può insegnare Perché Sennò Chi il po' Arop Divende Chi sta Divende Cioè In alcuni casi E non in tutti Assolutamente Che ci stanno Molte scuole Fatte per bene Sono talmente poche Che si Non scuole Esatto Esatto Eh va a bollare Sì ma C'è da dire pure Secondo me Vabbè Salutiamo un attimo Ci stanno salutando Buonasera Alenga 95 Buonasera E c'è Ila Rial Ciao ragazzi Buonasera Ciao ragazzi Buonasera Io sono d'accordo Nel senso che Purtroppo a volte Secondo me Si va a finire A parte il fatto È verissimo La cosa che dici Perché l'ho notata spesso Cioè uno esce da un contesto Però magari è colpa Alla pure dei maestri Degli insegnanti Anche Perché quando ti casano troppo Sì Dopo tu Magari hai fatto L'accademia amatoriale Esci con un presupposto Da aspettative Diverso Perché là Era il migliore Però Sempre in un contesto Devi sempre definire Quel tipo di contesto Ma in un'altra parte Tu pensi ad essere Un padraterno Di quella cosa Guardi io L'esempio che faccio Pure agli amici A volte Il teatro Lo spettacolo Io l'avvicino molto Al mondo del pallone Al mondo del calcio E perché? Perché un po' A compagnia amatoriale È un po' come Il calcetto Che noi andiamo a giocare No? Cioè Poi avammo Riescevo Esatto Affittammo E ci divertiamo A volte A volte ti rendi conto Che un coppacchino Campette Che noi abbiamo affittato Ci stanno i giocatori Overe E poi Vai in serie A O in serie B Per esempio E dici Ma chissà Riesce È perché Nella vita Ovviamente Capitano tante cose Però Il discorso Che mi volevo agganciare È proprio questo Che a volte Sì È come se Esci da quel contest E già Invece no Io Per abitudine Forse anche per esperienza Dico sempre Che lo spettacolo Un po' come il pallone È sempre un continuo Di mostrare Cioè Maradona Per fare un esempio È Maradona Ed è stato Maradona Che purtroppo Non ci sa più Ed è stato Maradona Perché? Perché ogni volta Che scendevi in campo Dimostrava Che lui era totalmente Superiore Non è che l'ha fatto una volta Quando ti ero 10 anni E poi non si è visto più E allora Fusse tutto bello Che io faccio una cosa Una volta E che lui supera una lotta Caduto io con una volta Piggi il numero E sei apposta Ma è una cosa No sono d'accordo Sono d'accordo Perché secondo me Però oggi è difficile pure No Dire a un ragazzo Che è uscito Da un contesto Che sembra No dire Più che altro Far capire A un ragazzo Che è uscito Da un contesto In cui è sempre stato Riconosciuto Come il migliore Fare capire Guarda Fra che La realtà Che hai vissuto Era limitata Adesso Confrontati Con Una realtà Diversa Però è diverso Qua secondo me Perché qua Nel campo artistico Quindi parliamo Qualsiasi campo artistico Sì Pure musica Cioè In generale Nel campo artistico In generale Tu vivi molto d'ego E quando tu fai Magari Uno spettacolo Dove magari Hai un determinato pubblico Che ti è venuto a bere Perché Per ragioni varie Eccetera Hai fatto quello spettacolo Ti è andata bene Quella volta Eccetera Bisogna poi anche Scindere la cosa E dice Aspiet Fammi stare con i piedi Per terra Perché Ho ancora tanto Anche molto dai maestri Come ti formano Perché uno che vuole il tuo bene Si Forma anche Per Farti trovare pronto Poi al post Il post accademia Il post laboratorio Però è pure vero Che ci sono molti Che fanno Molti maestri Che fanno questo Come post Lavoro Certo Quindi vai a fare L'insegnante di teatro Come post lavoro Io ti devo far credere Comunque Perché se non lo sei Io ti faccio Far credere Ragazzi bravo Comunque devo coccolare Per fare in modo Che a te non ti fai Che se tu vieni E ti dico Guarda Andrò Non mi dice niente Proprio portare Io ho proprio mano Tu porti 50-60 euro Un mese a me E perciò ti sto dicendo Che tu lo fai pure Come Alcuni lo fanno pure Come un post lavoro Per guadagnare Quella cosa in più Portare Quella cosa in più Guarda Il suo discorso Per esempio Questo ammette Che forse Il mio difetto Può sembrare Un pregio Ma io ho capito Che forse Ad oggi C'è un difetto In che senso Che a volte È come se In base a questo discorso Che sono pienamente d'accordo Non vivo poi bene Cioè Non mi vivo Al cento per cento L'entusiasmo Di un successo Il successo Non è solo Chi è scendato La televisione O chi ha fatto Il rock o hand Per esempio Ma non è solo Quello il successo Per esempio Il successo Per esempio Tu vengono In teatro I 50 posti I 100 posti Fai un bello spettacolo L'agenda si diverte Quello è un successo Cioè perché Il successo Non è solo La televisione Oppure Noi siamo abituati Oggi Secondo me A una generazione Dei numeri No Si finisce sempre A parlare di quello Poi Tu quanto vale Ehi capito Ehi capito Cioè Ma pure Pure generalmente Penso ti sarà capitato Pure a te Quanta gente È portata a teatro Sì È capito Allora O teatro Non si può fare Se tu portai gente Oggi è diventato Se tu portai gente Sai fuori teatro Ma purtroppo Non è così No È capito È capito È per oggi L'idea che passa È questa Quindi in un contesto Dove questa è l'idea Oppure Passa il contesto Già viene avuto Uno spettacolo a teatro Ma non fai ridere Cioè Sì è giusto Fare lo spettacolo Ridere Però bisogna capire Che il teatro Non è solo ridere Non è solo Cioè Bisogna Bisognerebbe Proprio Fare È un discorso Di base Proprio che la gente È però È però Questo poi Secondo me Porta anche a quello Che stavamo dicendo prima Perché io Che non ho Capito bene Che cosa è il teatro Una cosa che Ho detto anche in altre situazioni Si parla dell'allontanamento Delle persone dal teatro Allora io faccio il raffronto Ecco con Non dico la mia generazione Parlamo prima Tipo mio padre Ecco con questa esperienza Che ho in famiglia Lui Nonostante Faceva parte Già all'età nostra 35-36 anni All'epoca Di una compagnia amatoriale Già all'epoca E facevano questi spettacoli Già al teatro Il piccolo A fuori grotto Che mio padre Essendo di fuori grotto A compagnia insomma Era della zona Flegrea Quindi si appoggiava Giovanni Grillo Gianni Grillo E quindi Loro all'epoca Che lo facevano Vendere come dopolavoro Perché era un hobby Ovviamente Cosa succedeva Che le persone Che andavano al teatro Riempivano il teatro Pure per 8 giorni 10 giorni Cioè chi lo facevano Giovanni Viennari sabato e domenica Giovanni Viennari sabato e domenica Ed erano 14 di loro In compagnia 15 insomma Cioè O teatro O piccole 270-280 post Quindi non è poco E terapie Noi attenzione Che facevano così E quindi si creò Questa cosa Che è successo Secondo me Poi andando avanti Nel tempo Un pochettino È colpa nostra Dico nostra Degli attori Perché Perché Forse abbiamo Poi cominciato L'epoca ecco Di mio padre Che ha i suoi 35 36 anni C'è stato ancora in giro Insomma Il filo Il filone eduardiano No Eduarda ancora in vita Negli ultimi anni di vita Però ancora era Nelle sue attività E quindi Ci stavamo Su fatta Cosa C'entra Io ammattia Allora Poi si vabbè Una compagnia Amatoriale O una persona Che a mattina Faceva l'imprenditore O bustina Facima così E la sede Gli affotevano E tu l'andavi a vedere Perché c'era Quella predisposizione Artistica Mentale Poi però Che cosa è successo Negli anni Secondo me Si è un po' Distaccato il pubblico Anche perché Noi Non abbiamo più Mantenuto Certi standard In che senso Di certo Nessuno è Eduarda Nessuno è Easy perché non nasceranno Forse più Totò E cose Però non abbiamo Mantenuto le attese E alle persone Non abbiamo più Fatto vedere Qualcosa Cioè non abbiamo più Raccontato qualcosa Di quel momento storico Si bevrebbe Eduarda Eduarda Raccontava del Dopoguerra Degli anni Della fame Secondo me Storicamente Il teatro È morto Quando è diventato Un teatro Di propaganda Quindi con il fascismo Esatto In quell'epoca Il teatro È iniziato a morire Perché appunto Non era più Non era più Teatro Ma diventava propaganda Che è diverso Secondo me Quindi È lì che è iniziato Storicamente A morire il teatro Poi noi non siamo stati bravi Secondo me Come dici tu A portarlo di nuovo A quello che era una volta No io dico Se una persona Mi viene a vedere Cioè il discorso La voglio fare semplice No se una persona Mi viene a vedere Ovviamente Io la penso così Poi Ognuna la pensa in un modo Se io Oggi ad un ragazzo Di vent'anni Che non conosce niente Tu anni e niente Io ho trentasei Trentasei Se ha un ragazzo Di vent'anni Ah boh ma figuri Non lo pare T'entrante Però ha un ragazzo Di vent'anni Che oggi è nato Nel duemila Quindi una generazione Playstation Telefoni Iphone Cose tecnologiche Lo porto E ho metto Annanzana Commedia Di Edward All'ottanta per cento Ma non ne manca colpa sua Perché Giuseppe Non si rivede In quell'epoca Io lo capisco Però ti posso dire Una cosa Io sono andato La prima volta A teatro A otto nove anni Perché I miei vicini di casa Dell'epoca Erano Lui attore Lei truccatrice Di teatro Amatoriale Però avevano una compagnia Molto bravi E andai a vedere A otto anni L'Avaro di Molire Un ragazzo Un bambino di otto anni Che cazzo ne capisce Del L'Avaro di Molire Io rimasi così E da lì Nacque la mia passione Per il teatro Da quel momento Forse ce l'avevo già dentro Però ti voglio concludere Il discorso Scusa Mi aggancio a questa cosa Che è successo Questo discorso Vale però Per che cosa Sia Uaglioni Vindanne Gli faccio vedere Edoardo Però Gli faccio vedere Gli anni cinquanta Kill non si vede In quel tempo Se io tipo L'Avaro di Molire Gliela rendo Anche forse nel linguaggio In qualche situazione Comunque gliela rendo Fruibile Attuale Cioè Chi la capisce Allora può darsi Che un ragazzo Un ragazzino Si appassiona Certo Certo Non dico Che a noi Mamma fa Natale in casa Copia Lo ambo Perché non si fa Che la scena Che bella Lo prese Cioè Girete cose Attorno Lo prese No Però Creiamo qualcosa Registicamente Sono d'accordo Però Questo rispecchia pure Secondo me un po' La televisione italiana Di oggi Cioè Non è mai riuscito A rinnovarsi In Italia In Italia Siamo rimasti Cioè Ancora oggi Il format Il grande fratello Marone Cioè Cazzo Rinnoviamoci Qui a quant'anno Amici di Maria De Filippi Io non ho niente Contro amici di Maria Però Cioè Facciamo un format Nuovo I format Che noi abbiamo Visto come nuovi X Factor Erano format Che in America Si portavano Già 80 anni fa In Italia Sono arrivati No Però Dico il teatro Rispecchia la stessa cosa Cioè Non abbiamo Non siamo riusciti A rinnovare All'inizio Si chiamava Saranno fammi E ricordo Nella prima edizione Cioè La categoria Cantanti Esatto Cantanti Ballo Recitazione Cioè 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 Allora Dico io Cioè Tu oggi Poi spuntare In televisione Vuoi cantare Vuoi ballare E non è possibile Quando invece La televisione italiana Cioè Noi siamo stati Potremmo riusciti La che hanno Comentato La commedia All'italiana Noi I film Carlo Vanzina Sei stato Il palazzo Amare Voglio dire No Non lo so La cosa Troisi Allora Anche queste Che siamo stati Anche Noi Come artisti Persone Dello spettacolo E vogliamo Trovare la gente La gente Si è anche Allontanata Perché Perché Vede Queste cose La televisione Bene solo Che vanno Anzi Questi programmi Non dico Fessi Però programmi Insomma Semplici Senza contenuto Pallammi C'è E' capitato Pure a me Per esempio Di vedere Questi programmi Non c'erano Io Pure per esempio Uno che Mi è uscito Recentemente Format Nuovo Ma comunque Gen America Giardtivo LOL Su Prime Gen America Giardtivo Pure quel Giardtivo Cioè Noi arriviamo Sempre dopo Poi sembra Una cosa Molto semplice E anche Sinfatica Perché l'ho apprezzata Particolarmente A me è piaciuto E' passata Come una cosa Geniale E' capito Che però Ma già esisteva E' una cosa Pure in passanza E' totalmente Che è misera L'alternativa E' capito Sì Secondo Il paese Il sistema Dovrebbe anche capire Che alcuni programmi Come un altro esempio Che posso fare Non riesco mai a capire Perché In prima serata Per esempio Si parla male Ma non per dire Si parla male Però in prima serata L'uomo Napoli A me Se no Perché uno Può essere Napoli Patriotti L'uomo A me Allora Si parla solo Wai Cronaca nera O virus Covid Poi E tre A mattina A pitch Rai due Rai tre Bella e buona Eduardo Napoli Pompei Cioè Ricchi Ma Certo Tutti i urni Ma facemola Vare pure Un po' In prima serata L'unica A Natale A Natale In casa Cosa L'unico Che valorizzava Queste cose Era un po' Piero Ancela No O figli Anche lui Ovviamente Però è mai possibile Un Coppa Cien De Mila E questa E questa è la domanda Che noi c'hanno E poi ci lamentiamo Che i giovani D'oggi Spesso si dicono Pure un coppa Di giornale Non hanno valori Mi sape Fanno I baby gang Spottano I viecchi Oppure Tutto nel calderone Ovviamente Allora La televisione Non voglio Fu professore Però Nacque Come A scopo Educativo Cioè All'epoca 54 Quando nasce La televisione I primi programmi Erano per All'epoca Educare Le persone Che erano Analfabeti Dopo guerra Per alfabetizzare Diciamo La popolazione Quindi c'erano Programmi Un programma Forse All'epoca Sul Rai 1 Per esempio Che faceva Programmi A scopo Culturale Certo Non dica Oggi Perché sarebbe Una cacata Impossibile Però Manteniamo Anche una sorta Di messaggio A si Cioè Non solo Io 35 36 Ho visto Più cose Ovviamente Riesco Forse A scendere Un tantino Meglio Ma non Ho una ragazzina Che ha 12 anni Sper Amici No Amici Come si Uomini E donne Per esempio E tu Ci fai A una femmina Stata in Coppa Neutron E chi Lade Prima Si Posa Uno Posa 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 Allora Io Ho 35 Anni Con l'esperienza Drica Va bene Perché La situazione Ma A 12 Anni Anni Che Che Poi Capito C'era però c'era pure c'era pure c'è pure dati c'è pure chi dice per esempio vabbè ma alla fine il tradimento c'è sempre stato solo che ora rendono noto ma fa spettacolo quella cosa però il concetto è che tu a quant'anni dici io ce ne ho 29 ok tu a 30 anni fondamentalmente lo capisci quel tipo di spettacolo e sai pure che l'autore della trasmissione fa avvicinare a guagliuncella ma noi lo capiamo perché o un po siamo del mestiere un po siamo adulti e lo capiamo ma io mi baso sempre su quella a 11 12 ma che capisce tu la voglio ciò spiegare ma chi lo vogliono con il telefono male che oggi sapere sta cosa per lui quello che vede qua è che il giusto questo è preoccupante per me poi faccio pochi discorsi a bicchiare lo so no vabbè però è giusto secondo me dare un messaggio comunque anche educativo la stessa cosa quello che io dico molte volte nei testi delle canzoni eccetera io non dico che sa da fa testa passando però a dare almeno un messaggio un qualcosa di ma è pure vero che tu mi puoi venire a dire sì ma poi magari quello ti sta dando un messaggio che tu non capisci che vi un altro contesto sociale c'è sì però sia già vero altro e è normale che poi la società viene improntata su quella musica forse il primo come dire il primo primo settore che ti insegna questo perché anni 60 70 le canzoni si deve aprire si parlava tutte d'amore ma patrice perdere l'amore pur si operativa l'amore ma sempre si parlava d'amore è sempre in una moda era l'eleganza che cambiava c'era un altro tipo di eleganza no ma pure se vai a vedere ci si lanciano i microfoni appresso non si fa e vedi la la però la la però è figlio del discorso che facevamo prima tu non hai fatto cavetta ti viene messo in un mondo così pompato a mille tu pensi che sia un gesù cristo là dentro capito c'è e no però capito però non è non me la sento manco di da tutta la colpa a lui perché se ti hanno fatto credere questo di te tu pensi di essere un dio sceso in terra e quando io dio sceso in terra vedo che ai miei pezzi tu non stai ballando dico ma che cazzo io comando io qua cioè c'è una visione di te distrutta distrutta capito e non è ma no se tu viene educato in un certo modo non riesce a concetto e io so che non la so bene la storia ma stiamo parlando di generazioni diverse raffaele non puoi fare della generazione nostra già era un po diversa la generazione di oggi non è prendere parti è semplicemente di io sono il primo che odia questi comportamenti però e vanno pure capiti perché uno si comporta così perché per no ma perché per poterli combattere tra virgolette c'è devi capire la problematica che c'è di fondo altrimenti c'è per esempio secondo te maria come si potrebbe fare per ritornare al teatro in maniera sana teatro come per la musica insomma tutto il mondo artistico no ma ripeto non è tanto per ritornare alla maria sana perché parla parola strana però io dico per metterci al passo dei tempi perché poi non ci rimane che fuori dall'italia le cose siano poi così tanto migliori voglio dire non credo proprio però secondo me oggi bisognerebbe avvicinare il pubblico con cose attuali perché per esempio di una cosa campo musicale ultimo c'è che sta stagione vai tu arrivi cienta mila cristiani o stadio san paolo due volte sono stati marato c'è chi si va a sentire canzone ultimo di certo non è come rose rosse voglio dire nel senso se parla d'amore però in un modo un tantino più ammalegone per l'amor di dio giustissimo però domandiamoci perché su vaglione cantautore bravissimo è riuscito a coinvolgere così tante persone ma a volte pure gente di 50 anni che c'è pure gente rossa che si vanno a sentire per regnare in un strato dicendo po' no perché perché forse lui comunica nel modo giusto e avvicina le persone nel modo giusto è quello che dovrebbe fare anche un po' esatto il teatro oppure il mondo dello spettacolo a volte vi il programma che non ti immagini però belle buone la gente segue corre a presa e cose poi un programma che a te può sembrare più è però la fanno capito la comicità fanno la cosa più così e poi vanno a fornire perché non non se li vedono non se li cagano e secondo me bisognerebbe un attimino rimetterci in discussione un po' tutti quanti perché sennò questi fenomeni non ci stessano e invece oggi c'è sta una disparità totale tra chi li ha un milione di follower e chi li ha un fan ma tenono i cinque mila seguaci ma i seguaci possono anche non contare niente perché noi l'abbiamo sempre a teatro c'è sempre dal vivo si devono abbrichi gli cinque mila che questo è un argomento tu sui social potrai pure 100 mila cristiani ma quanti da vivi tu lo tieni 200 c'è stanno problemi è anche vero c'è nel senso bisogna sempre poi testare però ecco questi esempi a me piace molto tipo rocco ante io lo seguo già da quando lui uscì pure clementino la stessa cosa che può tra l'altro trungna chic penso che sai pupati a mammi clementino hanno una compagnia amatoriale e li ho anche incontrati in qualche festival in qualcosa da piccolino però è lui ecco viene da una famiglia come dire buona in che senso che artistica esatto a me è capitato di aprire il concerto dei del fratello di clementino che hanno un gruppo si hanno un gruppo di qualcosa comunque fanno bella musica però loro ecco per esempio rocco ante clementino non perché sono del sud che può non è di salire però non perché sono delle nostre zone però hanno centrato l'obiettivo cioè pure loro non è che fanno la canzone degli anni sessanta però fanno la canzone attuale nel modo giusto c'è kill su talent su fenomeno e si meritano il successo che che stanno avendo giustamente anche perché secondo me pure un po' problema eh generale che noi per per noi inteso come il nostro paese chi organizza i palentesti sia televisivi chi fa cinema ti fate a te c'è tende sempre a guardare fuori quello che va portarlo qua e puntare sulla stessa cosa senza pensare che comunque ogni società ha dei gusti a sé quindi non è detto che se è una cosa funziona in america ma tematicamente potrebbe funzionare anche un po' come lo stand up no e l'avuli va arrivati a te la stand up comedy è un genere chiamiamola così che si può chiamare gente io poi dico sempre sono derivati lui è il fratello proprio di clementino e vedi hanno fatto pure il pezzo insieme clementino fit derivati senza pensieri loro io apri il concerto a loro un locale qua vabbè io andrei a vedere il primo contenuto andiamo a vedere eccoci qua eccoci qua no ma si presenta dopo noi vediamo prima il contenuto e poi spieghiamo il contenuto perché ma lo capiranno perché mariano ti spiegalo tu ed era la premiazione del premio troisi perché mariano grillo è il vincitore dell'ultima edizione del premio troisi e in più di quella passata del premio charlotte che possiamo dire che sono i due premi di gabbarie più importanti diciamo non dico del sud però credo credo di sì poi giustamente pure il lato di sopra si mantengono i loro festival giustamente però però sicuramente sono molto importanti perché poi si fanno anche da anni infatti lo charlot è arrivato al trentaquattresimo anno perché io l'ho vinto l'anno scorso il trentatresimo anche perché c'è da dire che mariano grillo ha vinto a piatto scatto ci ha già fatto diciamo che il lupurillo di massimo troisi si sta ragionando in là tu per i anni in coppacchino palco si va bene allora ecco quest'altra cosa mi è molto piaciuta no ma mi sono reso conto sto risentendo non ti senti come al solito incredibile c'è una parla come noi stiamo parlando a mezz'ora no si sente ma si sente bassissimo c'è un attimo di gelo in studio no abbo che hanno poco che si sente abbo parla in due i propri sto parlando ma non si sente no non si sente c'è tu ti senti ma dagli altri micro hai un talento dividi ma a metà ma a metà ma ci sei abbiamo i mezzi abbiamo i metiti guarda non lo facciamo a metà 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 non è che sei staccato prima quando hai fatto capire hai fatto come creato luogio e stick quando attacchi c'è stick capito babbo con che stiamo dicendo no perché mo sta questo vai tranquillo hai siamo tutti i sistemi volumetrici allora parlavamo eh caccarezza sennò si scade eh tony mette con me prima però perché c'è qua che indifferita eh no ecco è normale ecco qua allora no la cosa è quest'anno il premio Massimo Trois non perché l'ho vinto però è stato molto molto difficile cioè nel senso molto molto sudato per via soprattutto anche degli altri concorrenti no perché Cassa Raffaele ma anche gli altri concorrenti erano vabbè Raffaele capito non sarebbe stato sudato no non è lui è fortissimo Raffaele lui c'è c'è molto vicino tutti chi che l'ho visto guardi ti sto facendo complimenti eh no no ma è la verità perché Ustime non lo dico solo qua lo dico sempre eh no però è stata una bella cosa fare riuscire a organizzare cioè sono riusciti loro noi a organizzare questa collaborazione con Zelig sì eh dove ovviamente Giancarlo Bozzo che è il patron di Zelig chi l'ha inventato eh quella bandana lo sapete tu che a origini sì non lo sapevo sì e niente vabbò lui ha creato insomma questa collaborazione quindi era il direttore artistico del premio Massimo Troisi quindi che è successo che si è inventato che i vincitori il vincitore o i vincitori eh facevano poi una serata allo Zelig a Milano questa è stata questa è stata ma perché ecco il teatro lo spettacolo un po' come anche il pallone dovrebbe sempre essere aggregazione mai eh mai spartenza chiamiamola così detta napoletanamente e quindi quest'anno io sono stato fortunato perché sono capitate in questa edizione ed è stata un'ottimissima cosa poi fare una serata a Zelig a Milano perché è stata un'esperienza ovviamente da raccontare infatti cosa ti devo chiedere come state esibiti comunque non è stata la prima volta davanti a un pubblico tutto milanese sì tutto milanese sì anche se attenzione non erano tutti milanesi sia perché in un po' che c'era qualche parente mio trapiantato trapiantato a Milano da anni e sia perché comunque lo sai a Milano grande metropoli quindi tu trovo Calabrese o Cugliese però i milanesi erano la maggior parte teatro Zelli che fa una roccaforte della comicità sì si bellissimo sì no no là si ragiona non dico in un altro modo però noti che ovviamente c'è un contesto dove viene vissuto da anni anche il pubblico è abituato da anni andare lì vedere nuovi talenti nuove nuove proposte ancora la cultura del teatro esatto quindi quello di cui stavamo parlando prima è quello che un po' è venuto a mancare sì perché prima c'erano abbonati che si abbonavano a prescindere sì dai dai cartelloni vari però ho notato che negli ultimi anni vari teatri hanno creato anche lo stesso teatro Troisi sì cartelloni bellissimi c'è cartelloni sì 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 io devo dire la verità non perché c'ho a che fare però il teatro Troisi è sempre stato uno dei tanti che che ha puntato sul teatro per la gente io lo chiamo così nel senso con prezzi popolari però salvaguardando comunque una sorta di di come dire di artisticità cioè comunque chiamando comunque artistica veramente ne vale la pena andargli a vedere quindi Raffaele trimo pure il microfono per te a bolla a bolla oh è proprio un filo giallo sarà un filo giallo che sto provando a risolvere il problema in diretta non è il mio sistema proprio avanzato questo è proprio che tu hai il minore italiano no no ma non lo so per quale ragione ho filo ho filo facciamo a metà non è che a metà no è peccato e allora senza madre è peccato perché abbiamo tutto abbiamo la scheda nuova i fili colorati attivo Power Ranger brava brava i fili colorati che è dal tonico che fanno un po' tra l'asì praticamente sì sì si era dal tonico poteva tra l'asì mi sono perso quello che stavate dicendo no parlavamo del teatro e farsi paziente che filo parlavamo del teatro Troischi è stato uno dei teatri a Napoli che ha puntato sul teatro ecco popolare cioè per la gente dove ha messo un abbonamento con dei prezzi ma questo non l'ha fatto solo quest'anno l'ha fatto negli ultimi negli ultimi tre anni insomma barra quattria nell'ultimo periodo pur durante la pandemia periodo difficilissimo ovviamente però si è sempre cercato come dicevo prima di far pagare il prezzo giusto e comunque vedere degli artisti casi tu viena da parte c'è una buona cosa di soldi per gli abbonati insomma sempre in quello che sono le possibilità ovviamente però questo poi ha ripagato cioè la fiducia poi delle persone perché poi in tanti anni il teatro per esempio lì arriva circa a mille abbonati quindi sa comunque ha fatto un numero di persone ben definite oggi come oggi non è sempre ci voglio dire non è sempre mille abbonati è un bel traguardo secondo me ma proprio in generale tutti i teatri pure per esempio l'acusteo a febbraista che cosa l'uno si ah si ah ma ci viste pintus sembra l'acusteo una data però fa forse che cosa l'uno sta 10 giorni eh vabbè che cosa l'uno la voglio regnere ma guardi io stavo cercando i biglietti e online già li porta tutti i saluti ad andare a vedere fisicamente secondo te oggi qual è uno dei comici più forti in Italia ma nuovi o anche vissuti e dipende che intendi per vissuti no vissuti nel senso che già hanno esperienza a fermare vabbè sicuramente che cosa l'uno e cioè stiamo parlando ovviamente di vabbè a parte i soldi che ha fatti però lì trovo che sia bravo proprio anche già solo nell'espressività di genialità di genialità poi vabbè ce ne sono una grossa cavetta sicuramente poi non è nufis perché non è che viene laureato quindi figurati non è l'ultima fissa voglio dire poi non si può negare anche se molti io spesso sento che a volte rinneghiamo gli stessi della nostra terra e per esempio uno che non si può negare che ormai sta a dei livelli altissimi alessandrosiani sicuramente e lui a piacere a piacere a lui no no ma ti ripete il discorso è regolare può piacere come non può piacere però lui ha inventato possiamo dire un nuovo modo di ecco come raccontavamo prima un nuovo modo di arrivare alle persone e così è arrivato anche a grandi livelli poi sicuramente ti posso nominare a piacere a parte l'amicizia però io non so se l'avete nominato non ci ho fatto caso ma Salem è più teatrale è più teatrale molto più teatrale Salem è l'ultimo commediante che forse l'ultimo eduardiano l'ultimo che forse è riuscito a portare la gente al teatro con testi scritti da lui che riguardavano uno spaccato di società odierna quello che rimproverà rimproverava rimproveravamo prima la mancanza degli altri artisti di essere riusciti a fare qualcosa forse l'unico e proprio Salem che c'è infatti a gente si va a presù a Salem si è vero ma io credo allora lui è un brammaturgo fantastico infatti io ricordo una sua uscita vi ricordate il programma cavalli di battaglia che le Gigi Progetti e lui sa lì di solito andava l'artista di turno e sa faceva un pezzo per esempio ci aveva le battute storiche o bicchiarie o non così e Alessandro simpaticista e quando andò a Salem ricordo che lui disse che lui fondamentalmente non aveva un pezzo non era un personaggio che faceva un monologo chiamiamolo da villaggio attenzione non voglio screditare da nessuno però da un monologo il pezzo il famoso pezzo e allora lui poi racconta che poi alla fine si faceva il tuo pezzo però lui giustamente ci teneva a dire che usciva da una situazione più teatrale ed è vero perché a livello di drammaturgia critica in Italia nessuno possa vantare o a meno che mi hai spugito con cronamente anche perché scrive un spettacolo nuovo quasi all'anno no vabbè ma chi le può fa 150 all'anno una cosa in cui è fortissimo è l'improvvisazione cioè veramente bravo vabbè quello tutto parte dal talento puro dalla genialità che chi le tene e non ho io per esempio questo dico chi le comunque tene in età ce ne è trent'anni voglio dire e è per un'ora e mezzo l'anno scorso eh no no per un'ora e mezzo non si ferma non mi ricordo no non l'ho non l'ho pagato io non l'ho pagato io perché era un regalo della mia ragazza a livello di prezzo sicuramente sarà per vedere uno del livello di Salem è trentacinque poco sì 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 vabbè dipende sempre a dove avrei perché poi sanno i vari settori le varie cose se ricordo partiva da da otto euro insomma il biglietto poi ovviamente a salire credo che cambia a livello di file dei posti eccetera eccetera però oggi diciamo a Napoli almeno diciamo che gli artisti un pochino più saliti più conosciuti i prezzi vanno dai trentacinque ovviamente a salire cioè se tu oggi vai all'aguste kille tanti il prezzo per esempio salone adesso sta 50 eh vabbè salone c'è nata situazione c'è nata situazione è nata cosa è nata cosa è nata tre ore voglio tre ore di spettacolo tutti monologhi uno di tra l'altro ogni tanto football elettrico ma mai preso più di tanto dico la verità tecnicamente sia fortissima perché viene da una scuola di cipolla di cipolla eccetera eccetera però è molto tecnico questo no lui so che a parte essendo anche autore dei suoi testi so che lui ha una come dire può spaziare dalla A alla Z proprio in maniera esponenziale cose che per esempio altri per esempio mantengono una precisa linea durante lo spettacolo lui è molto cioè talmente le cose che scrive che pensa che ovviamente può spaziare ed è forse credo l'unico in Italia che ti mandano in un teatro per tre ore perché poi canta anche ti fa pure quel momento un po' da musical comunque non è facile ci sono due tipi di cose poi si dividono in due tipi di cose il comico forte perché è bravo tecnicamente è proprio la sua bravura e diciamo è il comico invece il comico più popolare che ti fa schiattare dalla risata perché ti prende più nella nella semplicità che la ma c'è un Maurizio Battista lo stesso Biagio Izzo Peppe Odice per esempio sono comici che magari tu parlano di cose attuali semplici hanno un approccio molto più pane e puparola con il coltubbico certo non è su come crozza per esempio che ovviamente fa tutta una satira particolare e invece a loro volta poi dipende poi dal gusto tuo perché c'è sta pure gente che io sento gente che dice tipo a me Gigi Proetti non mi piace non so perché volessi conoscere c'è nessuno però non sono magari tanto appassionati ma comunque c'è anche c'è anche da dire che così come nel teatro anche nella musica c'è chi dice ma secondo me De Andrini non è bravo cioè sono poi sono poi cose che vabbè comunque a proposito di attori bravi e di teatro io mi vado a vedere l'altro contenuto del nostro Mariano aspetta ma l'altro contenuto è questo ok ok lo vuoi spiegare prima oppure lo vuoi spiegare prima e vi dirò no oppure lo diciamo dopo Antonio sta un po' nervosetto no è uno spettacolo dillo tu no 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 ditelo pure è uno spettacolo che Mariano ha portato ditelo pure no ma no lo spieghiamo dopo e mi piace prima di dare il contenuto e poi dopo ne balliamo l'americano Sì, andiamo, prego! Dai, andiamo! Aprici la sua storia a Cristo, dai! Figura e merdo, fradra sacristana! Ma qual è un fradra sacristana? Questo ti ho detto prima è Angelo! Angelo Custode! Custode chi? Ma è il mio custode! Sua custode è pure il mio, non lo vado a me! Abbiamo fatto una bella riunione di condominio, abbiamo visto un bello video che ti offro, ci sei il mio custode, hai faticato! Alzati! Alzati, non mi fai preoccupare! Claudio! Che è successo? Hai fatto un suono esagerato, Claudio! È d'accordo, è d'accordo! Ma è quanto a fronte, Claudio! A fronte? Ehi, ma ci sono una dichiaria che stavamo in paradiso! Ah! Io però mi credevo che stavamo in un locale a luci rosse! Poi in questo sogno ci sei pure uno vestito da Luglio a lui! Sei pure l'Angelo Custode! L'Angelo Custode! Ma... ma... Puoi bere? Eppure siamo una vita intera a fare la domanda! Chissà quando morimmo a due! Chissà come si arraula da là! Chissà qui ci sta! Ma... Oh, cazzo! Che stai? Ma parla a un vento! Ogni morto ti è una stanza sui! Sai che un mortone non ti sta aperto? Mamma mia! Io? Qualche viaggio di piacere! Piacere? All'inferno! Ti sei accorto come fai? E tu invece? Io mangiavo la pastina riscaldata! E le donne? Uh! Brutti! Ma sono pure sposata! Mangiavo con mano a batulino! Mi sono fatto un cuore così per mantenere! Bravo figliolo! Tu andrai in paradiso! Cioè, ma avete capito? Uno perché in paradiso ti ha fatto una vita di inferno! Non hai capito? Ho pensato una volta mio nonno tra sette la casa era aperto la porta e dice Tu agli uni! Ha fatto un bello regalo a tutta la famiglia! Ha cattato una cappella e ci mettiamo tutti quanti a rinno! Cioè, io no! E i nemici che cattavano i pulmoni ci fanno una città in mondo verde Ma quando è successo? Samadì! Ma tu che stai dicendo? Non mi lasci messa a ieri se! Ma chi l'ha porto Samadì? Ma tu che stai dicendo? Non mi lasci messa a ieri se! Ehi, chi l'ha porto Samadì? Ma tu che stai dicendo? Ma tu meraviglia che le messa a ieri se! Tu sei ovviamente fra una settimana di meraviglia! Cioè! Finito! Io non ti sento che palla attrava il po' di Trail E' ok! We**ke! E, ben, braviglia. 邊! Could you be a pompa! ceğimi ritugale, palpiare su un bambino vedere su un bambino? la carretta la carretta il cavallo non ha le ruote il cavallo ha i cosi la manubile i cosi i piedi perché il cavallo non ha i piedi il cavallo è un animale è tutto un animale e tiene i piedi il cavallo tiene i piedi noi siamo esseri umani e in quanto esseri umani abbiamo i piedi il cavallo è un animale quindi ha lezzà 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 e il corno sotto il corpo è ciò fu il mammut ah si il mammut è la mamma del cavallo e la nonna di lei la nonna i paputi e allora perché il cavallo si chiama cavallo e che ne sa ci sarà asciuto un po' di ragazza questo cavallo stai scemo però il cavallo che è il suo collo si stavano riconoscendo gli affetti familiari questo è due comici in paradiso di viaggioizzo mariana ha avuto diciamo l'onore ha avuto anche il permesso soprattutto anche perché non è che ci sono tanti spettacoli di viaggioizzo rifatti in modo ufficiale questo invece mi sembra che sia uno di quei pochi e quindi prima che stavamo parlando prevedevamo il successo a volte anche questo a tutto quando uno su questa cosa posso anche confermarlo io se parli rivolto verso il microfono fa un piacere va bene basta che guardi il microfono tu rendi conto guarda il microfono puoi fare pure così cosa fa così guarda su tutti se no più un braccio io in tutto io faccio un piccolo avanti avevo fatto i complimenti ad Antonio per come aveva organizzato l'audiotecna quando hai scassato gli fanno sempre male delle cose così e invece abbiamo abbiamo constatato che invece non funzionava niente non so se è finito alle 169 vabbè possiamo andò possiamo allora guarda io ti dico la pura e sincera verità se io non ti ascolto dopo nella registrazione sono più contento però penso dai magari lui si vuole far sentire quindi sto facendo tutto questo per te e ce la ci farei a mamma e perciò scusami io la faccio per tua mamma comunque stavo dicendo questo può essere considerato un successo personale o comunque un successo in un percorso artistico soprattutto perché nel nostro ambiente che poi noi parliamo per quanto riguarda il cabaret la comicità eccetera se non fai parte di di determinati circuiti possiamo dire tranquillamente eh certo hai sempre meno possibilità di poter vedere un teatro pieno perché un grande gente è portata ad andare a vedere chi c'è sta in televisione eccetera certo quindi una cosa che ti volevo immaginare per chiederti c'è una domanda da Tonelli perché domanda è un chilometro in mese Marta di Cimbra a Pumigliano e poi arriva qua la domanda la domanda è la domanda è preferiresti proprio sinceramente una carriera di successi personali senza fama o la fama senza comunque soddisfazioni personali di questo tipo ma che sei una domanda posso avere mesure di tipo vabbè il concetto è diciamo che la domanda se credo che chi l'ha vista essere la domanda vuoi avere solo fama oppure ti interessa anche la fama che comunque si sa ti porto i soldi ti porto notorietà però senza aver fatto mai qualcosa senza sapore mi sono divertito no vabbè diciamo il sogno ma crede di chiunque pensi tutti gli artisti è riuscire a trovare il giusto compromesso in questa domanda fondamentalmente è una risposta forse non ci sta perché ovviamente però se tu mi chiedi hai un sogno un obiettivo io ti rispondo eh il mio sogno è proprio stare nel mezzo in che senso riuscire ad avere un domani una buona fama cioè essere riconoscibile no riconoscibile cioè riuscire a che anche gli altri riconoscono i propri i tuoi successi ok e questo secondo me è avere fama cioè ovviamente anche gli altri apprezzano ciò che fai e questo credo che sia la base io dico la verità l'ho detto forse anche all'inizio però te lo ridico meglio eh io l'ho sempre fatto per uno per il pubblico per la gente cioè io faccio comicità o teatro quello che sia spettacolo per la gente non l'ho mai fatto perché io dovevo salire su un palco e sentirmi un divo e quando mi salgo al palco non mi sento mai superiore a nessuno nemmeno e perché? ma è una curiosità perché? per la gente cioè in che intendi tu per dire per la gente perché io credo che la la mia predisposizione allora Sio Pataterno mi ha dato un dono un talento chiamiamola così io lo devo sfruttare tra virgolette e lo devo mettere a servizio delle persone in che senso? se riesco mentre racconto un qualcosa a far sorridere per me la risata una risata ti salva la vita allora se riesco a fare questo io lo devo mettere a servizio delle persone del pubblico che mi guarda chi è venuto là e chi l'è non l'ho mai fatto dal primo spettacolo che ho fatto pur quando ero creatore ricordo questa mia mentalità c'è devo far contente le persone non l'ho mai fatto per una questione personale e questo secondo me cioè il gesto più nobile che secondo me può avere un artista è proprio questo donarsi al proprio pubblico e non invece salire su un palco e dire io sono chi ma state così non esiste questa arroganza però per me non esiste la questione comunque di donarsi al pubblico non credi sia pure una questione poi personale cioè nel senso la soddisfazione dire sono riuscito nel far sorridere queste persone e quindi diciamo è anche un tornaconto poi personale sicuramente è normale che su piano morale su piano etico nel senso che la cosa che mi dà gioia è proprio quello cioè che tu riesci a fare un qualcosa che prima a te ti piace ovviamente poi lo riesci a a trasmettere alla gente la gente apprezza e ovviamente ti ritorna la gratificazione e questo credo che sia quel dare avere tra pubblico e artista cioè eh io artista creo delle cose parlammi chiaro le metto a disposizione del pubblico il pubblico più le apprezza più io mi sento gratificato che se eh cioè almeno non lo so io la vedo così è il mio scopo perché a volte ho sentito dire non ha buio qua ma senti una giostra per l'amor di Dio anche io mi diverto eh pur io parei però il il primo pensiero mio personale è sempre quello di donare qualcosa alla gente che sia un sorriso che sia un pianto però donare qualcosa alla gente se il pubblico non ride esatto esatto è proprio la base non è come magari tu canti una canzone chi le dà ascolto per tre minuti chi le dà ascolto per tre minuti tu canti una canzone io eccetera lo dico perché eh sono in entrambi settori quindi ho riscontrato la la cosa è proprio la stessa cosa cioè poi vabbè io diciamo a livello di eh per esempio quando salgo su un palco per fare un concerto eh rispetto a quando salgo su un palco per fare un spettacolo teatrale eccetera mi rendo conto che la questione per me personalmente è la stessa io vengo dal teatro ho iniziato con il teatro e io penso che è sempre stato quello che poi mi ha fatto fare qualsiasi altra cosa quindi per esempio mi sono reso conto che molti miei colleghi cantanti eccetera quando salgo su un palco e canto fanno un concerto hanno anche molti tempi vuoti no? perché il cantante se le prende tempi vuoti è diverso io non riesco io quando sto sul palco vado in ansia se no c'è qualche tempo morto perché venendo dal teatro sono abituato che non ce ne devono essere gli tempi morti capito? Giuseppe posso fare una domanda? eh allora ma tu quando canta la canzone eh sei concentrato un po' d'estria cantare sulla musica eccetera sono concentrato su parecchie cose è un po' essere la stessa cosa che se tu stai facendo sto dicendo che non devo avere ti sto facendo la domanda capisci? chiedi 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 si stai guardando si stai guardando ma dici magari pulizia non devo avere assolutamente assolutamente non penso che può essere la stessa cosa perché se gli faccio una battuta giù se la gente non ride si crea il gelo tu quantomeno fin quando non finisce la canzone diciamo il feedback completo però il cantante si fa una cuda che la gente si rizzi il carne voglio dire c'erano i brividi anche l'artista anche l'incantante se ne accorge allora no io ti dico la verità dal mio punto di vista è assolutamente la stessa cosa per quale ragione perché nel momento in cui sono sul palco sono talmente dentro quella cosa che sto facendo che alla fine dello spettacolo mi rendo conto degli applausi che sono state eccetera quando sono lì sono concentrato esattamente come la canzone sono dentro quel momento capito? quindi non vivo tanto il di fuori poi lo vivo personalmente cioè nel senso se io mi rendo conto che non sto dando quello che volevo su quel pezzo ah ho capito che mi auto cioè dico si condizioni esatto questo succede anche a noi questo succede anche a noi questo succede anche a noi pure Raffaele comunque fa comicità questo ti posso garantire succede anche a noi perché giustamente come diceva lui se io immagino una battuta no? e ovviamente ci arrivo a quel finale e noto un non dico una freddezza però noto sa che la cosa lo sorrisino e ovviamente tra virgolette uno si condiziona questo eh vabbè però questo credo che fa parte della crescita nel senso che sono proprio queste cose che poi nel tempo mano a mano tu le vai a smussare a limare e arrivi che a a diciamo che a mamma ecco il spettacolo perfetto però capisci anche i tempi perché i righe che da un'ora e mezza ma non è che si può ridere ogni 20 seconda e ma a meno che ci sono le scime cioè scime in senso buono cioè ogni cosa che a quel punto dici che c'è un problema no per te anche la credibilità della risata però dici sei ho te qualche bastida e bulla che aveva fatto cioè quindi io in quel caso esatto in ambito teatrale o in ambito comico cabaretti come mi regolo se per esempio questo però è un aspetto mio personale se vedo una cosa del genere cerchi di recuperare battute cioè nel senso dico magari aspetta non l'ho detto no che recuperi quella battuta cioè nella risata cerchi di improvvisare qualcosa che ti porta poi a recuperare quella risata quell'applauso la classica cosa come dice dice la busta battuta è l'ultima volta che la faccio no no più che altro mi rendo conto che magari se è la battuta è quel cioè se la battuta fa schifo mi rendo conto che la battuta fa schifo quello te ne puoi rendere conto dopo due tre spettacoli esatto perché magari alla prima non l'hai detta bene tu la seconda è successa una cosa si è bruciato il tempo comico alla terza diceva boh farà schifo no ma invece io invece no no ti do ragione su questa cosa perché io come dire ci tengo proprio a a creare quella quella stessa battuta detta anche nello cerco quasi sempre di là nello stesso modo però farla sentire ascoltare o vedere a più pubblici diciamo così più spettatori perché poi ti rende conto diciamo che questo è subito a fare a Frosino una serata non è ruta io ora rimane a Milano ci ha detto la stessa cosa perché ma non per testare perché uno dice no che sai che ti ha da funzionare perché tu esatto la devi anche poi verificare questa cosa poi io sono del parere che la battuta è molto importante però meno del tempo comico perché secondo me assolutamente tu puoi dire pure oggi c'è il sole assolutamente con un tempo comico è come il barzelletto allora se uno ne stava raccontando non ci stai andare a fare non le stai raccontando però la battuta è la stessa esatto a volte non è indispensabile la battuta fortissima ma il tempo comico fortissimo che ti svolta lo spettacolo poi dopo cioè quello che fa la differenza faccio il mio personale del pezzo mio ho una grossa difficoltà l'inizio l'inizio del tuo pezzo ma quale pezzo il pigro ok perché era troppo lungo faceva sempre l'inizio proprio troppo dove spiegare c'è un spiegone inutile anche cercando di mettere battute sto parlando in questa direzione andò è nudo di mettere il cuffio no 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 guarda là mi stai cagando di stupido una cosa l'inizio del mio pezzo era troppo lungo per me non riuscivo mai a trovare mettevo sempre qualche battuta in più o qualche battuta diversa per cercare di renderlo simpatico fin quando una volta uscendo un vuoto di memoria sai quando degli scettini un vuoto di memoria con la prima battuta dissi la prima cosa che mi veniva in mente che poi alla fine era il concetto del mio personaggio che era proprio proprio genio e vedi che dalla gente di Deo ho detto io questo è l'inizio io tenevo tipo un trenta secondi frase e invece quello che poi funzionava era una quattro ma sai cosa io mi sono reso conto negli anni che quello che funziona di più a teatro è il portare proprio te stesso cioè nel senso quello che ti insegnano anche i laboratori di gabarit sì ma la questione è proprio questa che sia teatro o che sia gabarit su questo secondo me è uguale la questione di porti te stesso cioè anche nella comicità no tu porti un tuo aspetto personale estremizzato estremizzato chiaramente però lo porti sì quindi tu sei sincero nel dire quello che stai dicendo questa è un po' la differenza tra il teatro a volte non mi dici ma ah fai l'attore ah fai una comica sì infatti sono due cose diverse esatto perché l'attore è proprio quello che ehm come si dice interpreta esatto interpreta il personaggio il loro personaggio il loro personaggio può essere comico questa può essere balbucciante e tu hai fatto balbucciante eh eh eccetera eccetera eh invece il cabaret ovviamente tu hai la predisposizione per raccontarti capo ovviamente tu te ne vai sulle tue linee che parli degli argomenti che ci sento hai come dire preparato però in realtà è come se alla gente arriva fammi assenti stasi il marian che mi racconti in realtà e poi è tutto studiato ben preparato però è quello quello che hai invece un teatro è totalmente diverso perché le persone entrano per vedere un una uno spettacolo di prosa una rappresentazione una storia e quindi ti impersonificano però secondo me quello in cui si intersegano cabaret e teatro è una cosa cioè io per esempio mh quando vado a fare uno spettacolo teatrale e la sta la differenza da quando ti rendi conto che per esempio una persona dice vabbè ma sapete che sta facendo FIND però ho capito a volte ci sono però quello che dico se tu ti faccio un esempio mi è capitato di fare la parte di Raffaele Capasso Russe Cugnizzi no? e Russe non me merda mi piace molto ricordare quando tu dici che hai fatto Russe mi piace molto ricordare questa battuta perché un po' ti sento me merda e quindi te lo puoi ricordare sostanzialmente però praticamente quello che volevo dire era una questione che ovviamente era un personaggio molto diverso da me dal mio modo di fare di vivere eccetera quindi quello che ho utilizzato è portare le mie esperienze personali che ne so dovevo essere arrabbiato quel personaggio deve essere arrabbiato ci portava la mia rabbia quindi ricordando degli episodi della mia vita che mi hanno fatto incazzare e quindi secondo me in questo si interessa un cabaret perché il cabaret porta il tuo aspetto personale ma anche al teatro se non ci metti il tuo personale assolutamente però è un lavoro diverso che fai sopra sicuramente sicuramente sono due cose diverse io guardi io lo ammetti io parto da io sono di natura timido cioè nel senso a me non mi è mai piaciuto stare al centro dell'attenzione ma in che senso però il primo scoglio cioè pure con gli amici oppure si chiamiamo la strada pur la scimita non sono di carattere quello che ha iniziato però poi come nasce quella situazione sono il capobando divento il capobando però questo perché sai che puoi farlo senza essere giudicato è natura mia essere comunque timido questo può essere un paradosso che tu dici ma ti fai un uomo comico si timida oppure si triste ma si dice drammatico introverso no ma ciò a volte questo forse è anche un segreto perché io dico sempre non è che se ti faccio ridere su un qualcosa che ti racconti però non è già passato la situazione cioè non è che se tu mi vieni a mezza la figlia io ti faccio proprio un discorso cioè normale in serie fammi una battuta fammi una battuta a bolla a bolla aspetta fammi ridere fammi ridere eh questo è è di solito ti faccio sempre abbattuto un coppio di carabinieri ah sì che funziona io sapete che l'ho fatto tra un carabiniero rindano scassa e l'è buona trassa guarda tu uai che incidente allora chi lo rileva non è non è non è infatti ma era prima di conoscerti al premio troisi non supportavo tanto sai d'impressione ma tu hai detto il fatto che sei timido ti metti poi c'è problema troisi lui all'inizio lui stava un po' più ma è una cosa a mia caratteristica non riesco ma io pensavo facevo ma io non riesco a pazzia perché si sa bene anche un po' la tensione ti prende perché tu sai qualunque sai che hanno avuto i milagri stiani e infatti poi dal momento in poi mi ricerci c'è stata sauro mariano grillo ricerci e da lì poi siamo stati tutti insieme a commentare tutti gli altri no è vero ma io anche ma pure con le donne con la mia moglie all'epoca a Napoli si dicevano un po' più buttare cioè nel senso non sono mai io pure quando dovevo conquistare una ragazzina a 15 anni non ero mai quello che proprio spavaldo facevo vabbè non proprio così devo fare la cosa però a dire non ero mai spavaldo nei confronti proprio anche della donna sono sempre state sa c'è capicciuffa capì ci mannava la rosa pupazza le peluche cosa guarda i dito i dito i dito regalato a me capito una volta una cosa assurda su un dito ma no ma perché ero da piccolo ero io sono fatto come lui molto timidissimo e a volte andavo in difficoltà no? e mi capito questa cosa è una chicca assurda stavo alle prima superiore tipo che era il quarto ginnasio quindi il primo anno di liceo classico praticamente c'era questa ragazza che mi piaceva molto Alessia ciao Alessia ciao Alessia io stavo a tutta male adesso è sposata c'è un figlio comunque praticamente comprai un questi cazzo di di come si chiama? diddle mi esce diddle un regalo un dito e la ragazza non ha peso male c'era questo diddle diddle praticamente portafoto allora io sai comprai sto coso era il giorno di San Valentino glielo andrei a portare aspetta ascolta andrei a portare questa cosa e lei faceva tutta la parte no no dai non posso accettare lei faceva dai ero imbarazzatissimo dai dai prendi no no non posso accettare dai dai a un certo punto dopo il terzo rifiuto alle muovo tu piglio ti sciogliesti troppo dissi proprio così se l'ho presa eh ovviamente ma paura però ovviamente non c'è confusa niente ci siamo fatta pure no ma hai capito cioè mi prese proprio la cosa è che io già ero imbarazzato forse proprio questo non è nato niente questo Alex come dal romanticismo al femicidio no ma hai capito cioè la questione era ero talmente tanto imbarazzato e più lei procrastinava a prendersi sta cosa mi sentivo imbarazzato mi sentivo imbarazzato dico piglia di sta cosa perché sto in imbarazzata poi ci chiacciere nei film perché ve lo titolo ve lo titolo rifiuto le regali e poi c'era tutta la gente che passava e io dicevo che cazzo mo mi vedono ancora così pigliatelo per favore pigliatelo a me che mi fanno le proposte i mani fanno in pubblico e poi vedo le tine ma dice si eh ma anche i ragazzi sì ma per adesso sono cambiato molto cioè sono sempre timido però teatro animazione po' nove anni di animazione ma hanno insegnato comunque mi formano sì sicuramente cioè ti insegnano ad avere una timidezza che però riesci a trasformare a gestire esatto in qualcos'altro in eh però mi hai ricordato un sacco di cose di me quando hai detto quando sei raccontato c'è San Aned no ma non solo con le donne non solo con le donne non solo con le donne pure quando hai detto sto fatto del del troisi no che tu eri da parte io pure io quando devo fare uno spettacolo sono molto molto concentrato non riesco nel momento in cui devo entrare da poco in scena non riesco a parlare con la gente cioè dovete andare vicino a me perché io sono concentrato nel mio non voglio sentire niente attorno a me a volte mi è capitato spesso mi chiudevo nei camerini da solo magari gli altri fuori scherzavano cioè io basta solo io questo per esempio è una cosa che io facevo molto all'inizio proprio nei primi anni del teatro ecco ero piccolino 15-16 anni 18 anni e ricordo che c'era questa usanza che in la compagnia dicevano no Mariano non riuscite niente no no manca loro spettacolo non riuscite niente e poi dopo negli anni provai inizialmente mi ricordo con la musica cioè tipo un'oretta prima di spettacolo mi portava l'ipod no l'ipod si chiamava all'epoca eh l'ipod e cuffiette cosa senti 4-5 canzoni che io ti ti rilassavo una poca tifosissimo del Napoli e quindi mi rilassavo poi piano 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 oggi forse la vivo un tantino meglio però comunque esatto però però mi piace proprio quel momento di solitudine per concentrarmi al massimo cioè quando sono solo eh no non mi piace scherzare prima dello spettacolo perché lo sfogo deve essere dopo cioè dopo scherziamo mo sono talmente tanto concentrato che non voglio distrazioni voglio concentrarmi su quel mood ed è una cosa che mi rilassa proprio cioè lo stare con me stesso e pensare allo spettacolo però io ho fatto un compromesso con me stesso in questi perché pure ero come te insomma no? allora in quel momento che mi viene quella cosa dici maronna mi non c'è cioè uno si ripassa un po' le varie cose no? nei momenti che cosa succede? che cosa succede? che con l'esperienza tu cambi un po' la situazione certo allora oggi la vivo ehm non dico distaccato però riesco pure ogni tanto ecco ma ci fa una rosatella con i compagni riesco comunque a dire una parolina in più e che se poi l'abitudine l'esperienza ti porta sì sì perché poi io penso tu hai fatto tanti mesi sacrifici eh sì ma è l'angopo voglio alla fine l'unica cosa come dire brutta della vita sui malattie è la non salute ma è proprio faccio sti ragionamenti faccio sti ragionamenti facciamo a divertire dico la verità un'altra cosa bruttissima oltre a malattie tutta sta roba qua è anche quando ti rendi conto che devi buttare la macchina e rimani firme in autostrada anche quello è bruttissimo l'abbiamo raccontato all'autonale ieri stava a prosino se qualcuno ha visto una macchina quanto è peggio esatto ero tonnelli sull'autostrada per aereo io si è bruciato il motore è completamente tutto quanto però vabbè capita no vabbè ormai ha fuso il motore ha fuso il motore ho buttato la macchina la macchina l'ha comprata un anno e mezzo fa si mi servo ho piaciuto se avete visto una fumata non era la terra dei fugi era la macchina di tonina vabbò capita pure questo comunque no è bello a me forse capita più la questione che dici tu di riuscire più a scherzare eccetera con quando devo fare qualcosa a livello di cabaret ma semplicemente perché se mi è abituato no no tutto al contrario sono più abituato a fare i cabaret paradossalmente perché nei hai fatto l'animazione eh avendola fatto 9 anni gli ultimi anni l'ultima volta che hai fatto i cabaret quant'è stato? dieci anni fa adesso la sto facendo di meno quando abbiamo fatto il cabaret poetico però quando li rifarai un'altra volta? voi andrete in scena il 22 gennaio al teatro San Nazaro saremo in scena con il cabaret e poi c'è pure Tony Donnelli abbiamo ricordato pure la cifra alla fine erano problemi di sordo perché Tony Donnelli non voleva partecipare il cabaret senza questa produzione ma Tony ma quale è un problema? l'hanno fatta così e Donnelli ha accettato l'ha accettato per amicizia no no però è vero tornando al discorso fatto poco fa a volte ho notato che con crudo è una paura di più oppure ti viene poco però ammetto e lo dico sempre non mi ricordo niente però è una questione caratteriale che non faccio assolutamente in in malafete c'è una cosa automaticamente istintiva è un ragazzo si si tu muovi d'acqua è l'occasione non arrivi a parlare ma proprio con la scimità tu mi raccontavi la vita tua però sai se non si crea quella prima è quel primo ghiaccio che si scassa è difficile sono qui che dico ah ma tu ti chiami Raffaele ma tu di dove sei sai non è da me capito non è da me mi fa piacere di aver fatto una mezza perché veramente poi dopo sei un ragazzo normale ci arrivi alla mano molto non ti vuoi che leggi chissà io già partecipando a ciò che chissà vincito che è vincito che due comici imparati chissà vincito che non è vero assolutamente sono ancora qui sulla terra no la cosa bella è che anche io penso avrei fatto la stessa cosa tu cioè vedi un Raffaele dell'altra parte non mi avvicinavo ma pochissimo per altri motivi ah ma Raffaele non per te tu sei una bella femmina non per te perché poi ti ho conosciuto e ho avuto modo di ho conosciuto allora io ero dalle scuole medie insieme eh però qui c'erano bene che c'erano scuole medie che era produrre l'autore però stavano a casa sua stava ecco ci capite però hai ragione è vero con la una aveva una pariaca la sera no poi abbiamo parlato di varie persone dico poi mi stai facendo che poi buscate pure la mia mamma mi ricordo ovviamente perché poi mi chiamai che ti chiamai direttamente da mia mamma ci chiamai subito però bellissimo e poi ho avuto tutto complesso e voi avete pensato di passare il tuo complesso in questo modo ma è una notte ho avuto i miei cosi fuori con la televisione mi chiamavano ma gente guarda che era più costruttivo mi chiamavano ma forza buscata mamma pure perché tacchiappamento non mi chiamavano fessi cose poco educative tutta la notte mi ricordo ancora quella che mi svegliava la mattina ma chi è? chiamare? tu non parlai non ricordo che non parlai io non ero uno che bisticciava con nessuno quindi figurati se andavo a pensare come voleva uscire ma che non sa ci stavano con strunzi e in realtà era veramente grazie che mi hai fatto né a mente poi dici perché tu se lo guardi per strada non lo saluti eccetera perché lui è un tempista è un agente di no è vero no no chi so ormai no io sono un bravo raga mi piace divertire vabbè però comunque sei cresciuto no tra la criminalità di un quartiere difficile sono una bagnata sono una bagnata sono una criminalità di primo livello ma più ando avuto pagista 154 intervalle si è cresciuto se è cresciuto in un quartiere difficile dove hai perso parecchi amici hai visto e quindi non c'è carai questa la puoi cioè questa la puoi fare come taglio no a quarta è estratta se tu scin intanto fosse a quarta tu vai a via marina è direttamente a quarta è già un fosso eh no si scinde proprio a via marina quindi dove sei? fuori crotta fuori crotta dove? via consalvo ah ok quindi all'inizio all'inizio no no all'inizio e che ci facciamo qua? ho quelle domande vabbè io mi voglio vedere l'altro contenuto prima che stiamo a fare l'introduzione perché già abbiamo parlato di questa cosa facciamela questo contenuto qua che vedremo è in pratica il premio come si dice il premio che ha ricevuto la consacrazione Mariano Crino volta ha vinto il premio Troisi oltre al premio in denaro che poi si parte ovviamente si si parte con l'altro vincitore ah perché due insieme ce ne sono stati cioè quell'altra ragazza c'è stata Federica Ferrero che adesso sta girando le puntate di Zelig a Canale 5 infatti che saluto assolutamente grandissima Federica e avete vinto insieme e abbiamo vinto ad Ecceguo e perché non poteva vincere uno ecco da già dice così è uno nord uno sud io sono sincero io sono abbastanza sincero quando ci fu la prima abbastanza 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 menti prima quando stanno annunciando il vincitore prima di annunciare il vincitore disse il Cino Riciccio che faceva il presentatore direttore artistico del primo disse abbiamo un ex equo o Giancarlo Bozzo eh no io gli ho detto io perché io sapevo che lui avrebbe perché comunque tu vedi la reazione pubblica esatto ti accorgi ovviamente gli ho detto che erano andati meglio di me e capì e Mariana era uno di quelli quando gli ho detto ex equo ti ricordo non erano tutti sui eh no no anche io devo dire la verità gli ho detto tutti e due invece quando c'è l'altro fa parte del gentil sesso capetto che io non facevo parte del gentil sesso e invece vince vince comunque meritano che Federico il pezzo che ha portato a Troisi l'ha portato a Canale 5 ovviamente è più fatto più lungo ma che sta facendo ancora Zedic ora ha fatto ora fa una terza puntata guarda che devono fare cinque puntate ma sempre su Canale 5 sì 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 con Claudio Pisi vannessi incontrato a presentare Zedic ah non lo sapevo è costruito molto sì anche perché è un buon mix tra i personaggi vecchi e i nuovi giovani tra cui personaggi vecchi a Zedic 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 allora perché se non sbaglio quello è messo a fare radio giusto? eh sì con la ballerina con Ciccio quello che faceva il wrestling il commentatore il wrestling Ciccio Valenti Ciccio Valenti Ciccio Valenti Buzz e come si chiama la ballerina Rossella Brescia tu stai parlando di 605 radio no non mi ricordo che radio è o RTL tu sai Rossella Brescia fa un sacco i personaggi comici eh sì è bravo eh bravo cioè è buono perché io so però se la presentatrice invece pure fa il personaggio il buzz è sistemato non viene più a fare chissà i personaggi vecchi no loro stanno invitando un ospite diciamo forte ogni puntata tipo forte perché nel senso con la vecchia scuola c'è stato Siani la prima puntata spiegando eh prima puntata eh eh Mago Forest no no Mago Forest eh è una ronna ma mi sfugge perché vabbè le cose ma che hai già fatto la prima puntata sì sì hai fatto due puntate ah ok quindi diciamo sono il format è tutti nuovi tranne qualcuno che viene ospitato non sono i nuovi non sono i nuovi i nuovi nel senso sono quelli la i più giovani eh Max Angioni ah Max Angioni stanno facendo Zellig sì che hanno fatto la trafila tipo il laboratorio di Zellig sa tutto un po' la 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 trafila insomma che si fa e poi sono arrivati la cavetta esatta e poi sono arrivati sul grande schermo quindi non è che sono proprio i nuovi comunque sono già conosciuti assolutamente eh però mannaccio non muovere nell'ospedale la prima sera è un grande lavoro di reclutamento di giovani secondo me è bravo Max Angioni si c'era dei tempi sono mica un po' Mario Pizio nella modalità di comicità a me Claudio Pizio mi fa impazzire ormai Max Sangione posso dire la mia non mi fa impazzire non mi fa impazzire non ho detto che non è bravo ho detto se mi facendo la custom personale non mi fa impazzire ma non è che no no non è sciocchezza non so che è cattivo ho detto sono comici che preferisco rispetto a Claudio Pizio cioè la tipologia di personaggi che fa Claudio Pizio non mi piace non mette in due no io lo vedo molto presentatore a Claudio Pizio è la verità anche quando fai film lo vedo perfetto per quella cosa però per esempio ho visto durante la pandemia lui creò un creò una cosa con il figlio mi pare non mi ricordo se andai in una situazione comunque sempre i soci sai che i momenti del lockdown dove tutti buttavano idee sui contenuti sui social tutto live eccetera eccetera e comunque lui so che attorialmente è fotte attenzione non è che è l'ultimo no no semplicemente il mio gusto personale non mi fa impazzire ma non dico che non sia bravo assolutamente anzi vabbè stiamo parlando di Zelig per l'appunto perché questo diciamo è una sorta di raccolta della giornata passata a Zelig esatto 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 vai no vado adesso perché non lo devi dire lo decido io quando vado ti la dà premio ahhh e mi innamoro di domenica 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 ti voglio bene di domenica 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 innamorato ancora tu voglio bene di domenica innamorato ancora tu voglio bene ancora balla gira e balla balla gira e balla gira e balla bella la vita sarà 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 canzone ahhh eccoci qua e questo era diciamo molto bello ragazzi io ovviamente essendo anche io un comico mi sono immaginato al posto suo e comunque sarei stato emozionantissimo emozionatissimo ma tu poi là sei andato in sei stato solo negli studi oppure hai fatto la trasmissione no 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 ho fatto lo spettacolo lo spettacolo il teatro zelico chi vinceva la tenda del premio troviso aveva diritto a una serata allo zelico il teatro zelico che portava il tuo numero diciamo portava il tuo spettacolo io ho fatto noi abbiamo ci siamo divisi ovviamente lo spettacolo e Federica quindi io ho fatto 45 minuti e Federica 45 minuti il primo tempo e il secondo tempo ma tu eri da solo oppure con noi da solo da solo tu fai lo spettacolo tu come se vuoi facci scala no teoricamente lo fai lì ovviamente lo spettacolo è un pochino ridotto perché deve durare ecco 40 45 minuti quindi tu scrivi pure giusto? anche sì anche anche i testi anche me li vedo io li scrivo anche a quattro mani con Lello Marangio che comunque mi da una mano Lello Marangio è un grandissimo autore è un grandissimo autore conosciutissimo scrive libri fortissimo ovviamente uno dei migliori e infatti io lo ringrazio non solo sempre sotto qualsiasi post che faccia e qualche intervista perché lui non solo mi ha aiutato ecco con la scrittura ma anche dandomi ecco qualche consiglio niente di particolare perché è una cosa si attiene si attiene però sai quei consigli io li chiamo consigli morali cioè nel senso che mi induceva a credere comunque in me mi ha dato diciamo la giusta forse linea questo ci ha portato che noi da subito fondamentalmente perché con Lello Marangio cioè lui mi ha scritto delle cose a giugno 2021 e a luglio 2021 c'è la prima botte abbiamo vinciato la cosa i risultati ci sono stati ovviamente dalla scrittura non è che tu puoi avere come diciamo prima puoi avere la scrittura anche forte ma se quella scrittura non te la fai tua e non la esegui comunque in un modo che può piacere alla gente ho fatto non nasce non bene io fortunatamente sono riuscito a compacciarmi bene anche con la sua idea di scrivere perché non è semplice perché non lo so gli ammazzonati d'autore tu puoi dire che non ti trovo perché chi scrive cose che tu dici ma io non mi fai mai non è da me l'autore è bravo deve essere anche bravo a sapere le capacità del comico e anche il modo di esecuzione per lui attenzione anche non conoscendo perché c'è da dire Kalel prima di questa cosa non mi conosceva cioè a secondo me mancano i social diciamo ci siamo conosciuti durante la pandemia e quindi poi è nata questa situazione quindi anche lui è andato un po' all'inizio alla cieca si è fidato diciamo così questa cosa poi abbiamo cacciato dal cilindro diciamo il coniglio come si dice perché questa collaborazione ci ha portato ad avere dei risultati certo non è un premio o non è una coppa che ti può dire si dimostra non è quello però è un segnale però se tu io ho fatto delle serate o poi un festival fai belle figure ovviamente sono cose che si notano se tu fai una bella figura si nota che la situazione è nata voglio dire questa è la cosa bella e quindi lo ringrazio sempre ovunque vado a me è una curiosità che avevo che hai forse già un pochino risposto però è una cosa che mi incuriosima cioè questa è proprio una curiosità mia esterna perché una persona nel campo poi comico decide di essere solo autore e non portare anche c'è nel senso dico una volta che ho scritto una battuta che è forte perché poi perché non la porto in scena no secondo me allora scusa per farti capire ti ho capito nell'ambito cantante no però 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 c'è la c'è la possibilità che io magari so bravo a scrivere canzoni ma non so cantare quindi dico canta la è la stessa cosa è la stessa cosa perché secondo me la il campo artistico a volte è anche una vocazione cioè come dicevo prima mi ringrazio padaterna se mi ha dato forse questa predisposizione a raccontare una cosa simpatica a far ridere a ricordarmela perché poi c'è una memoria a cervela i tempi giusti e tutto quello che abbiamo raccontato prima e secondo me è questa proprio la chiave cioè a volte alcuni nascono solo per scrivere e non per eseguire però la comicità è un po' diversa no no però come altri nascono solo per eseguire cioè tu dici Raffaele io a scrivere noi battuti però duriamo uno testo pur se mi scrive a bc io faccio diventare tutto l'alfabeto cioè capito ci sono queste tante cose è come il cantatore al senso tu l'hai detto prima no? quello come tu scrivi la canzone e poi ci vuole la cantare ah scuole canta cantalo tu e quello invece dice no no io voglio solo scrivere è lo stesso lo stesso sembra strano perché a volte la comicità viene viene vista come ah boh tu sai che la copra racconta quante cose ci diverti e invece non è così ho visto delle persone non posso fare no vabbè sono anche tra virgolette semi sconosciuti non voglio dire però che ho conosciuto tempi addietro come autori ma bello e buono oggi ho rivisto qualche video che loro fanno si e chiamano sisserati stand up e allora io a volte guardo e dico ma non lo so ma senza giudicare nessuno però se tu facevi l'altro e scrivevi anche cose buone e perchè poi ti vuoi snaturare? perchè qualcuno ti avrà il tabù ecco il discorso e oggi vedi che non fanno parte di Napoli sono persone che ho conosciuto fuori Napoli però poi dico che a volte ci seguiamo sui social e dico in strada ecco in di soggiorno raggendo in di casa raggendo 30 persone, 20 persone che per l'amor di dio tutto fa arte tutto fa brodo però dico io se tu hai per vent'anni hai fatto una cosa perchè bella e buona ma eh però secondo me era importante affrontarlo questo argomento te l'ho fatta apposta questa domanda perchè secondo me c'è un'idea un po' diversa della comicità cioè nel senso come dici tu c'è questa idea che una volta che ti sai scrivere la battuta e sai pure fa e perchè è diverso capito il cantante lo senti subito se uno non sa cantare capito il comico te ne devi accorgere perchè magari ti fa la battuta però il tempo comico fa la differenza come abbiamo detto però la differenza è che mentre il cantante si andiamo in una sala di registrazione tu che stai registrando c'è tu che stai con la tacca si si devo fare perchè io ribadisco quello che ti stavo dicendo prima secondo me la cosa fondamentale è il tempo comico nella comicità tu puoi essere il più bravo avere delle battute geniali ma nel serio perdi tutto perdi tutto avvicinati si si stavo avvicinati a te proprio non ti piace a te il microfono tu devi mettere la bacia proprio un sogno mio è fare questo podcast in da macchina allora una cosa che volevo specificare è un po' la questione della stand up perchè ora va moltissimo la stand up è quella cosa che va per la maggiore si va a aprire una per tutto quanto stand up lo fanno c'è da specificare però una cosa che diciamo il principio del stand up è quello che comunque di dire delle cose senza filtri quindi trattare varie tematiche sesso la politica la droga anche magari facendo battute abbastanza pesanti esatto invece molti credono che tu basta ti metto con mi dice ma la parola è fatta stand up però non è quello è quella cosa che può forse un po' io condanno è il fatto che tu ok prendi sta andando molto in America questa forma semplice che uno sta all'impiedi col microfono e parla quindi non fai personaggi non fai macchette non fai tutte queste cose qua però comunque però tu comunque quello che vai a raccontare deve essere qualcosa di studiato sensato eh ma come lo dici però eh esatto però invece adesso ci sta l'idea che tu basi in un sfogatoio che tu vieni e dici eh tu per esempio la stand up è tipo il cappello di Tony Tonelli è bianco come la sborra fa ridere? no però dittammo la parola è un rischio ha fatto stand up ma che cazzo fa ridere? che cazzo fa ridere? no no ma infatti io per esempio mi non dico mi identifico però credo che ehm almeno ad oggi non ho mai affrontato ecco argomenti del genere per esempio la mia comicità o i miei testi chiamiamolo il mio spettacolo diciamo così ritroverai un Marianne che ti parla di cose di tutti i giorni che può essere il rapporto coniugale che può essere ehm tipo mi fai uno spezzone no ecco tu fai eh no no non si può fare no che puoi essere i disastri ambientali che pur mi piace assai raccontare questa cosa le vacanze ecco quando vanno in vacanze tutta la moglie per esempio sono sposato da poco eh da da tre anni vabbè da poco relativamente la seconda figlia da quince giorni c'hai due figli io c'ho un figlio piccolino di cinque anni e mezzo eh e mo eh nata praticamente la femminuccia come è nata quindici giorni fa auguri allora è po' su casa è la principessa è la principessa di casa come sta una battuta di Mariana che a me piace eh e lo viettevo no che è la laga che dice che è bello confrontarsi qual è che è la laga che ti piace ehm che fa ma non la voglio direci sbagliata nasato no vabbè tu stai indiammi io e non fai che nasato no ma a me c'è la canzone tu che mi piace assai qual è e a me a tu mi piace nel blu dipinto di blu ma non l'hai fatto tu sì la feci io e poi l'ho data comunque ho fatto dici l'argomento ti voglio dare suggerisci la maronna quando facciamo sei cinquanta sfumature di blu no no ho fatto mi piace questa cosa a me mi piace ah ci capite che ho da che ho degli amici sono sposati da dieci anni sono diventati bisessuali bisessuali nel senso che fanno teota là ah 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 perché tu non ti dici bisessuali bisessuali tu subito associ è sempre una battuta secondo me tutto sommato non fa assai ridere però se la dici col tempo comico giusto per esempio raffè come si bella questa cosa di per sé fa ridere hai capito ma la battuta non è fortissima perché effettivamente tu lo guardi è brutto però il fatto che il capito fa così all'atomità si chiama così napoletano l'atomità perché mi guardi con questa fai perché raffè non è capito no perché vorrei sei bello è un buon tipo è un tipo è un suo tipo io vabbè non mi interessa manco questa cosa tu sei fidanzo sei a posto a uniciana a uniciana ilaria ha fatto le scelte ma se sposa mi raccomando ma io mi scusavo se non ci pure mi trovi se non ci pure mi trovi ah ma prima teni a fai spettacoli in tuo matrimonio eh bravo bravo che gratis ma a domanda che tu levo farei invece molto personale ma l'anno che bene mi viene affronato dei premio che il tuo cazzo che se non la scherzo mi hanno detto il precedente no vabbè ma a parte perché io ne ho fatti un po' non ne ho fatto solo il premio Massimo Troisi o il premio Charlotte eh ho fatto anche qualcuno dove ecco non mi hanno apprezzato oppure sono arrivato mh dietro qualcun altro insomma migliore in classifica l'ultimo che ho fatto l'ho fatto al come si chiama all'Adriatica Cabaret sono arrivato secondo dopo il premio Massimo Troisi però è stata eh una buona occasione per vincere perché attenzione là c'è da dire che non era come gli altri premi l'Adriatica Cabaret vince il primo e il secondo loro tenono questa usanza quindi vincono due persone però poi comunque decretano a spiettate il primo posto infatti sulla sulla targa loro ti danno un delfino d'oro eh veramente no ah 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 sta scritta il primo classificato e là il secondo classificato ah bufano sta cosa è simpatica però è stata un'ottima occasione perché essendo un premio fuori regione eh eh che potrà affermare ma era soddisfazione perché sai tu fuori regione vieni sempre visto una pulita nella situazione questa cosa come gli africani che stanno a ballare i napoletani eh brava è brava eh psicologicamente è così psicologicamente è così se tu non fai rire si napoletana ma come si napoletana ma non sei napoletano ma no no però ritornata anche agganciata nella discussione prima ecco perché eh ho sempre credito che poi la comicità cioè la mia comicità mi rappresenta proprio nel fatto che vi racconto cose reali cose tutti i giorni vabbè certo come un po' Fabià Giois questo non l'abbiamo detto durante quest'ora è passi di discussione però uno dei miei diciamo preferiti è sicuramente Biagio perché io sono partito suo fan a Canito perché da piccolino mi piaceva insomma poi lui si è evoluto oggi vabbè sta a grandissimi livelli è una rete nazionale ormai lo so in tutta Italia forse anche in Europa voglio dire che va pure a Germania a Svizzera che stavo dicendo ma a Svizzera che comunque sono partito suo fan e poi piano piano sono arrivato che diciamo ad un rapporto di amicizia la mia comicità si avvicina molto a quella di Biagio ma non perché io lo voglia imitare perché numero uno non so ci imita e numero due non sarebbe nemmeno da me imitare un'altra persona lì vado avanti con il mio binario mi sono reso conto che comunque si avvicina quel modo come dirti ma è normale qualcuno prende ispirazioni anche cioè anche è una cosa innata esempio tu ritrovi non voglio interrompere ritrovi qualcuno che sa ecco tu dici ma chi si parla ovviamente Massimo Drogli perché ti parla più lento ti parla più mok mok quella è una cosa che per esempio non è da me non so fare invece riesco a fare cioè la mia comicità si svolge è più aggressività non va pure i fursiani sai c'è quell'aggressività napoletana mi ricorda molto mi piace quando ho partito anche altri ma hanno di impostare proprio la secondo me anche poi inconsciamente anche al di là del fatto della cosa innata che hai due dentro poi negli anni uno come se fa scuola esatto ti ispira un po' anche i due idoli ma ti viene a furia è come se imparassi determinate cose negli anni pure a me capita che a volte mi dicono ah tu mi ricordi un po' quello mi ricordi un po' quell'altro non te la meriteresti nemmeno questa cosa che sto per dire a volte se percepisco nelle tue canzoni o nel tuo modo di essere personaggio un qualcosa ad cantamere ad cantamere un po' di lucio d'acqua eh forse forse così da lucio d'acqua così nella visione dell'altra sponda no 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 lucio d'acqua in realtà è uno degli ascolti che ho fatto poco 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 però è uno dei migliori autori eh mica dico che non tu sei meglio lucio d'acqua no tu sei meglio l'acqua no assolutamente no dico semplicemente è uno di quelli che ho ascoltato poco quindi non so però mi fa piacere che no però sicuramente tornando al discorso mio per concluderlo sicuramente eh ho seguito insomma quella 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 linea scuola diciamo così di viaggio no però poi andando a rivedere qualche video di là coppia di cassette che tipo giravo nonno nuandu 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 ero piccolissimo e salivo sulla sedia a dicere il poesia natale la barzelletta all'epoca raccontavo barzelletta eccetera eccetera quindi ah alla platea della famiglia e ritrovo quella sia quella entusiasmo per di raccontare quella cosa sia quella predisposizione eh che oggi poi ho portato avanti avete quindi perciò ti dico nel mio caso non è una questione di imitazione o di prendere spesso no ma ma è una cosa innata che io la ritrovo anche Simo Vardo vedi che mi aveva sette anni io mi conosciva a piaccio io però mi rivede che hai tenevi che tu hai fatto eh d'istinto eh d'istinto invece voglio fare una domanda a tutti e due in questo caso sì sì che forse può sembrare anche un po' banale però in realtà secondo me no eh che ne pensate dei appunto di questi contest di questi concorsi queste ma non so come chiamarli contest ah i premi i premi questi premi che allora parto prima io perché vabbè ci fatti qualcuno è più picciato è proprio tutto no io parto dal presupposto che tu l'ho detto anche a lui proprio sia al primo trucco sia sia anche dopo cioè eh è bene farli perché tu a parte ti confronti con altre situazioni che danno la possibilità di comunque una sorta di visibilità di fanno di farti vedere di farti notare tra virgolette sì affronti comunque un pubblico che non è mai scemo perché questi premi sono sempre o mio suo paese o mezza piazza cioè comunque ci sono un bel numero di persone è una bella prova è una bella prova è una prova anche per te per confrontarti con altri cioè che attenzione non significa perché ha vincito il premio Troisi e non l'ha vincito Raffaele che io sia migliore di Raffaele può darsi che non rimane Raffaele fa più spettatore cioè no fa più spettatore fa fa delle cose che alla gente può piacere di più rispetto a me che ha vincito il premio Troisi cioè questo può darsi può capitare non è detto che perché uno vince una statuetta o una coppa o uno premio in denaro allora o a chi sia meglio è identificato con i miei no ha avuto un risultato però poi come dicevo un'ora fa questo risultato deve essere verificato e constatato giorno per giorno spettacolo per spettacolo passo dopo passo non è che tutto ok abbiamo fatto eh ci vinciò voglio i suoni come ti mostri puliti parlare con me a dare a riuscire ogni parola che dico cioè non è dopo non è così io sì ho avuto questa non dico fortuna questa capacità di vincere delle cose importanti le sto portando avanti tutt'oggi non è che ha finito la fine carriera cioè i modi sono a cominciare si può dire e le porto avanti e mano a mano cerco di dare sempre il meglio di me ma sempre con quella attenzione ehm propensione al all'imparare cose nuove a testare cose nuove a migliorarsi non è che mi sento perché hai vincito i premi sì ma la rata di Giancarlo Pozza c'è una giuria c'è una giuria nota ma non è che mi sento arrivato anzi è un punto di contenza sicuramente ti fanno piacere perché ti fanno dire ah però forza fallo in Davide no Coccruno ha apprezzato quello che io sto dicendo quello che ho sopportato ma non è che ha vincito a Copp io sono migliore in tutta Napoli ma assolutamente no cioè a meno così è perciò concludendo i discorsi io dico sempre anche agli altri è giusto farli questi altri festival poi ti renderai conto che purtroppo dietro i festival a volte si nascondono tante dinamiche meccanismi meccanismi ma questo è come lo festival di San Remi non è che perché lo festival di San Cioacchino e Nagocio lo festival di San Remi no no è uguale pure lì a volte la canzone che arriva decima bella e buona che significa hanno vinto altri che erano a vincere capisciano succede anche non è stato questo perché purtroppo io dico la verità non mi ha mai portato nessuno a un festival anzi io mi sono sempre scritto tramite mail o messaggini poi io là che uno faceva ma chissi che cazzo e io gli faccio buonasera sono Maria quindi a questo mi è capitato poi non so mi è capitato allora partiamo da una cosa io eccolo qua guarda allora allora per esempio dopo aver fatto il primo ehm il premio Troisi ho capito che l'importanza soprattutto per quello che poi si può creare dietro al palco eh esatto e quindi i contatti che puoi fare dopo questo abbiamo io e Mariano comunque abbiamo fatto un'altra come Mariano mi ha chiesto di fare un'altra cosa insieme a lui un programma l'abbiamo fatto senza dire il resto che si può ancora fare certo in futuro e quindi secondo me la cosa importante di questi innanzitutto andare là fare il proprio pezzo eh testare il pubblico e quindi prenderla come un'esibizione come se tu stai facendo un'esibizione qualsiasi di sempre poi la c'è stato prima trovi in finale stavano 2.200 persone eh tra il pubblico e io io a memoria non so quale teatro possa contenere 2.200 persone hanno creato una bellissima operazione e quindi tu ti esibisci davanti a 2.000 persone che per te è una grande un grande banco di prova certo e quindi per esempio eh io ho scoperto i festival alla fine perché il premio Troisi e l'altro premio che facciamo pure che stavate pure tu a casa Giove eh sono stati gli ultimi due premi diciamo che fanno chiuso la stagione in un veicolo di fare gli altri premi l'anno prossimo certo per per esempio a casa Giove eh noi andammo ha vinto un'altra persona sì eh io andai dopo il premio Massimo Troisi il sindicato si diciamo a livello di organizzazione era minore diciamo il premio di casa Giove ah sì ah sì ma tu mamma onestamente sono venuto a casa Giove sì se bingo sono più contento ma questo è normale è normale cioè sono più contento ma sono venuto qua ecco perché come dice lui eh si stringe amicizia con qualche persona ti fai conoscere ti fai vedere comunque da giurizio c'è stato di insegna questo che l'ha eh che mi scrivete comunque anche ci siamo poi contattati anche per altre cose sai da cosa nascevo lì per esempio è ha vincito una tappa su sì eh ma non è che la chi le medie mie o i sui medie ris eh in quel momento alla giuria è piaciuto quella quel testo quella quel personaggio mi portava anche un personaggio rispetto a essere mia amica io buttavo monologo l'ha mi sei illuso poi l'ha mi sei illuso di eh perché l'hai sottato personaggio portavo quanti gli dice vinci un personaggio e tu Giove c'è stato un grosso testa a testa fino alla fine e poi ne viva grosso testa a testa tra chi è tra me e poi dopo mi è stato detto che io ero io l'altro però perché loro in questo premio ecco poi a volte anche qui è sempre soggettivo e attenzione perché in questo premio la il patron di questo premio preferiva diciamo delle cose più a personaggi chiamiamole non dico più teatrali però che avevano una caratteristica è più alla sì vabbè ma da personaggi per esempio una cosa più caratterista esatto per esempio io come anche altri che portavamo tipo un monolo cioè come dite tu prima io salgo là sopra e Mariano ti racconta una cosa raffaele saliva là sopra ma parlava da dal pigro il personaggio di raffaele non era raffaele nolli in quel momento ok quindi che succedette che loro prediligevano diciamo questa il personaggio e quindi se la giocarono raffaele chissà tu guardi uno che fece un personaggio tipo dei supermercati sì sì tipo cassiera simpatica perché ovunque si arriva c'è bel pezzo bella cosa però che significa però da là ho conosciuto altre persone che comunque mi hanno aperto altri sbocchi certo tipo l'organizzatore pure mi ha contattato per altri c'hai capito quindi bisogna fare allora che sono come dicevo prima matriano alcuni e non facciamo gli ipocriti sono organizzati se sapa alla fine chi vince se sapa forse anche prima si percepisce si percepisce da dietro tu che stai dietro dici video come parla la gente tra di loro che ci vuole però tu lo devi andare a fare no se vinci ovviamente è meglio perché c'è il suo premio in denaro fanno l'articoletto un confugionale oppure nel caso del premio Troisi ha una forte risonanza perché comunque il premio Troisi ha una certa caratura anche che San Giorgio è una città di teatro di teatro della gente di San Giorgio si 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 aspetta quel momento aspetta quel momento la città di Troisi eh esatto capito e quindi oppure quindi il premio Charlone è un altro premio dove è organizzato da persone che stanno nell'ambiente ma che su per le miliari per le persone dell'ambiente allora si lo devi fare quindi non ti devi rinunciare per dire l'hai preparato non vincerò mai lo sai che non vincerai però io non parlavo di questo cioè il discorso per cui ve lo domandavo è la questione della competizione cioè però in maniera da come avete risposto voi effettivamente secondo me la competizione si è fatta in maniera intelligente e utile si è fatta con la presunzione appunto di dire io vado là perché devo vinire e che devo eh io volevo vincere ma non che non non voglia vincere normale nessuno va là per non vincere allora la secondo me non ti aiuta più ma non ti aiuta proprio nella vita in generale soprattutto per esempio al secondo premio quando ci siamo rincontrati sta completamente diverso che è era come se stessi facendo un spettacolo anzino eh poi tu scendi dal palco tu fai una bella marescia passata caggenda rudo caggenda... diventa pure questa cosa qua ovviamente non è che tutti siamo uguali c'è stato quello che magari ha fatto vabbè ho più super musica eh non tutti hanno questo carattere io non dico poco competitivo però della sana competizione c'è stato pure quello che eh se lo facciamo per esempio in base a Mariano che ho chiuso a vedere i color capito no il nanno del rudo eh eh allora ma si sa di un coppo è un coppo a 2.500 persone se si trinare una terramoto per 5 minuti ma io già vincere è normale se tu sai di un coppo a Val che hai fatto trinare due volte che significa non c'è da buona rispetto a me per quella situazione per esempio alle semifinali perché il prematronismo semifinale e finale io ho visto che lui come ha portato il suo pezzo era bu 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 e vede che si scassa la gente veramente ma... io il mio pezzo l'ho poi modificato in finale e l'ho reso un po' più simile al suo modus capito? un po' più perché ho visto che era una cosa che funzionava quel pubblico la rispondeva di più a diciamo a un tipo di comicità più aggressiva sì allora magari il mio pezzo in alcuni frangenti ho messo dei pezzi dove potevo fare simulare la stessa aggressività mantenendo comunque il mio personaggio e questo per me è la sana competizione che io vedo che lui ha scassato oggettivamente se io voglio voglio fare voglio avere lo stesso risultato vado a capire come posso anche io avvicinarmi a quella tipo di cosa ma non è che dico a Bukilaj è scassato però io sono meglio la gente capisce niente allora ti spiego ti dico questa cosa reale io sono stato a Faenza non a Modena a Faenza mi succede questa cosa ovviamente noi già napoletani che chiamiamo a Faenza c'è un po' particolare comunque in questo festival mi dissero proprio perché non è che io non ero stato buono ma ero troppo aggressivo cioè e dice guarda io non è che sono troppo aggressivo il mio modo semplicemente di fare comicità è questo qua è normale che giù può avere risultato 100 qua ha risultato 50 ma questo però che cosa mi ha insegnato non è che mi sono tornato a casa presuntuoso mi ha insegnato che ok si va che fu un festival fuori regione ma c'è un attimo scusate la parola quando poi dopo del tempo ho fatto per esempio ecco sono andato a Lanciano che comunque Lanciano diciamo provincia di Lanciano in Abruzzo ovviamente l'abruzzese è più vicino romano voglio dire infatti ha vincito il romano vabbè vabbè vanta a casa che succede che ovviamente ho adattato il mio pezzo a quello che erano a quello che era quella situazione mantenendo la stessa cosa però se qui andava a una velocità 100 andava a una velocità 50 perché ero capito che dovevo un attimino abbassare i toni diciamo così abbassiamo i toni alziamone altri quelli di Tony Tonelli che adesso facciamo la solita domanda anche perché abbiamo ci fornato un po' abbondante si fa Natale la casa ma qua che siamo non vedo da qua giù 2,55 ottimo a ogni taglia pizza e che domanda voi la classica quella che facciamo che cosa è per te secondo me l'ultima domanda più bella è la penuta 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 allora che cosa è cosa significa secondo te essere aspetta però te la faccio bene ok faccio prima prima il predomanda che cosa è per te essere artista nel senso che ehm la mia visione per esempio che cosa è per te che cosa è per te essere artista e se pensi che per essere eh per una persona per definirti al cento per cento artista questa sua arte debba essere riconosciuta da qualcun altro qualcun altro ok vabbè diciamo che a mezzanotte è anche difficile rispondere a questa domanda però tenterò comunque tento la solita vabbè eccetera no allora l'essere artista l'ho raccontato forse in queste due ore di parlare ehm per me è donare donare assolutamente gioia in questo caso perché faccio comica quindi donare gioia alle persone al pubblico per me questo significa a mio modo di vedere essere artisti ehm l'altra domanda è allora ovviamente bisogna essere l'abbiamo anche detto stasera riconosciuti c'è una sorta di riconoscimento che sia del pubblico che sia dei tuoi colleghi di altri artisti eh gli autori eh o produttori della situazione bisogna comunque avere la giusta gratificazione anche da queste persone perché come abbiamo detto tutto prima non è che tu ti canta e ti suona solo tu cioè la l'artisticità lo spettacolo non ti puoi fare per la stanza tua lo devi cioè l'arte è la forma forse più grande di comunicazione ehm che la comunicazione è alla base proprio dell'essere umano esatto non esiste l'umanità esatto quindi che significa questo che se io non comunico e quindi non piaccio parlamici chiaro non piaccio ad altri che siano pubblico cioè che sia gente popolare o che sia gli addetti ai lavori non si può fare cioè è così non è che non posso fare solo l'artista però secondo te una persona però secondo te a prescindere quello che poi puoi fare o non puoi fare una persona secondo te si può definire un artista se questo suo essere artista se lo riconosce solo lui cioè no no è quello no è quello no secondo me è come se rimane il mattino mi scelta i suoi meccaniche facciamo vedere la macchina tua potessi anche che saprò vedere o conosco insomma come funziona la macchina ma il mestiere non è fare il meccanico se nessuno te lo riconosce in un certo senso vuol dire che c'è qualcosa che non va o no? no no ma non è vabbè ma è fila fila secondo me la ragione è no perché tu la pensi che può essere è che secondo lui è un artista è un artista a prescindere per me se io ho studiato eh allora scusa ti voglio interrompere è già una cosa principale se tu hai studiato e ti è stato riconosciuto cioè se tu sei laureato all'università tu ti è stato riconosciuto che tu puoi fare quello ma non che tu ti chiedi in una stanza solo tu eh sono un artista ecco qua in questo momento che non abbiamo andato io non ho più qua a parlare no ma tu sai come la penso no però sono curioso e sapi come la penso io la penso per esempio tutto è nato su dal fatto che comunque Antonio non ama autodefinista che sta attenzione la penultima domanda ma è proprio una domanda ah vero io non amo definirmi artista invece io sono del parere che se ho studiato ho fatto dei miei spettacoli ho avuto dei scontri dove quello che ho creato ha emozionato ha fatto eccetera eccetera a me pure se la gente non mi riconosce come artista nel senso perché non ho quella fama a livello nazionale che sei nata cosa Raffaele non c'è un cartamma a mezzanotte allora c'è due cose diverse una cosa no e allora una cosa è riconoscere senza che tu ecco hai raccontato che hai fatto degli spettacoli hai qualcuno comunque ti è venuto a bere non è che l'hai fatta solo tu quindi ti ha riconosciuto questa cosa e quindi tu ti puoi definire assolutamente artista questo è normale poi è normale che per avere la fama come raccontavamo prima ovviamente devi piacere non solo a poche persone ma devi anche piacere al grande pubblico agli addetti ai lavori come questa domanda è una cosa che sta nel mezzo sì ma anche in particolare è difficile riassumerla anche in poco tempo perché ecco ha raffinato il mondo ma poi in realtà ne abbiamo anche discusso sì sì a parole povere ovviamente non voglio essere ripetitivo ma c'è bisogno in questo mondo della riconoscenza e ripeto il pallone come ho detto no i giocatori di pallone se noi ha meglio il palleggio soli fa 3.000 palleggi tu dici questo è meglio di Maradona ma metti in mezzo campo no no se in mezzo campo fa 3.000 palleggi oh ha la fama ho raccontato tutto ma ci stanno 3.000 palleggi ma se chi lo sta solissimo in tuo garage ha fatto 3.000 palleggi chi è vero che ha fatto 3.000 palleggi io lo so è la stessa cosa è come se tu perché il discorso che facevi è come se tu innamorato di una persona ti definisci eh ora faccio proprio alla marzul se tu innamorato di una persona ti definisci coppia no tu sei innamorato di quella persona se la persona non ti riconosce l'amore non siete una coppia finché anche lei non è innamorata se no sei solo una persona innamorata ma guardi che se è una massima giusta è che la coppia dell'artista è pubblico esatto si può essere innamorati dell'arte artisti pubblico ma non necessariamente per quello artisti artisti secondo me lo si è quando questo questo amore per l'arte è ricambiato esatto è ricambiato si trasforma in il riconoscimento da qualcun altro io quello che dico sempre per me l'artista tu hai detto che regala emozioni giustissimo secondo me io hai detto anche una cosa fondamentale è comunicazione io la vedo proprio così cioè secondo me come la mia definizione di artista è un traduttore cioè uno che uno che traduce che lui non lo sa come la penso e la sto spiegando adesso uno che traduce come se io devo parlare con una persona cinese e ci parlo in italiano la persona non capisce se io inizio a parlare in cinese probabilmente ci iniziamo a capire e l'artista è uno che prende spunto da tutte le cose e lo traduce in qualcosa di comprensibile per parte locale sì 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 ma questo si può anche donare emozioni cioè l'emozione è alla base di questo diciamo la doni proprio perché gliela stai traducendo esatto in un modo che è comprensibile anche e lui la simila esatto in un modo divertente in un modo drammatico non è che molti attori comici belle e buone hanno fatto cose drammatiche straordinarie tipo gli a Benigni Benigni è nato che faceva Johnny Steckino i primi spettacoli poi bella e buona la vita è bella un mostro lo sanno in tutto il mondo cioè fondamentalmente ha spurnato di più facendo una cosa drammatica cioè rendendo l'attenzione tragicomica perché poi lui in quel film mette tante cose bello 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 è lo stesso Edoardo che lo definiscono comico quando in realtà è andammaturgo lui esatto è tragico chiamiamolo tragico ma in realtà Edoardo è un drammaturgo fondamentalmente senti l'altra che non è una domanda era citaci qualcuno almeno un paio di persone che vorresti vedere qui qui cioè nel senso ti interessa sapere magari come la persona che stimi non dici un piaccio a lui a lui a lui a lui se però lo dobbiamo chiamare noi che lo conosciamo io vorrei vedere un'intervista del genere con Raffaele Novi la prima cosa c'è che si racconta però che noi facciamo le domande a Raffaele ma pure a Tony Donelda è giustamente c'è bisogna invertire il format ogni tante la prossima le ultime puntate dell'anno sai che possiamo fare una puntata dove magari ogni ospite da magari poi è difficile aprirli tutti quanti qua però fa la domanda ci connettiamo online e ci fa la domanda e può essere una cosa si possono mandare anche il video il video esatto noi li mandiamo in diretta e nasce così uno si racconta e racconta pure l'idea ma ciò che a volte è bello anche conoscere le le idee degli altri no? che è una cosa che mi sembra appassionale così sta seduto si riuscita non ci facciamo senza cucina su quando tengo pure una piccola di casa mi tengo una piccola anche con la mattina pure fino a settimana in mattina oggi fa mi tengo un pulmino in casa se ci riuscita la pallina di terni sta andando ci diciamo che la ospita è proprio scuola è vero e quindi a parte noi? no, a parte voi non ho trovato a me fa e allora pensiamo pensiamo a Napoli ovviamente si arriva a Milano che viene a posto vabbè potrebbe venire magari lui conosce Fedez Fedez viene qualcuno che conosciamo noi ci arriviamo noi stiamo discutendo su Fedez per prendere tempo a me una volta al podcast citiamo Fedez e Muschio Selvaggio che è questa sorta di gemellaggio platonico Fedez comunque dobbiamo quando fai tiktok tu che hai anche rapporti lo coinvolge lo so che è difficile però sai far raccontare qualcosa di questi qua tu a me vuoi sapere qualcuno dei nuovi ovviamente vabbè pure Vincenzo Comunale Vincenzo Comunale Vincenzo per esempio che sta qua nella zona di Pozzuoli Cico ah Nando Paolo eh Nando Paolo la Pozzuola a Pozzuola mi ha pigliato un momento così eh sì io mi sta a piedi maestro una volta ci ho parlato che volevo fare l'Accademia su maestro cosa io maestro avete cinque minuti ma solo cinque vabbè vabbè Vincenzo Comunale sì sì no ecco per esempio Vincenzo che è anche più giovane di noi perché tenevi 28 anni quant'anni eh fortissimo lui ecco fa tutta la trafila lui è lui è genere stand up diciamo però secondo me è il giusto compromesso tra la stand up e la comicità di monologhista sì perché lui ti abbina anche il pezzo con argomenti più scomodi tipo politici eh camurrist l'ultimo pezzo che ha fatto è bellissimo ha fatto un pezzo che in pratica è statalizziamo la camurra molto stand up molto stand up però per battere la camurra statalizziamo la camurra questi camurrist diventano dipendenti vabbè tutta una cosa statale e nemmeno le geni panie ha molto sulla cosa diciamo di stato sì 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 no no lui è io credo che in Italia non voglio dire un'assurdità ma credo che attualmente in Italia lui quel genere là lui è il più forte soprattutto c'è quella comicità di genere stand up nel senso satira nel senso a volte anche satira politica la tipologia che può essere più accettata per la società italiana che è un po' bicotta e magari si 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 non ti ride come no lui va io lo vedo lo seguo perché ovviamente c'è un rapporto anche eh di amicizia ovviamente non rapporto eh eh lui per esempio va anche non credi che possa uscire da dentro la panza di Vincenzo però no lui va molto anche su un pubblico di universitari eh sia perché ha vissuto bene bene l'università e poi perché è fruibile a quel pubblico lì parla di argomenti anche giovani e credo che in Italia sia o il numero uno o uno dei più forti ma sicuramente io e oggi scusami se ti interrompo eh ecco è il giusto successo quello che ammette per tutta la puntata eh lui è è riconosciuto ed è gratificato anche dalle persone dal pubblico cioè sia all'inizio che sarà capitato anche a lui che faceva seratello con 30 persone sicuramente sarà capitato anche a lui oggi ovviamente ha un pubblico diverso vai in televisione canale 5 c'è tutta un'altra situazione ovviamente ci è arrivato con l'esperienza con la cavetta con la cavetta nonostante sia giovane a cui c'era 18 anni già vincendo la presenza sì sì no no è ovviamente ha una presenza per la comicità però come raccontavamo prima per esempio lui usa o una linea diversa ecco dall'amica anche dalla sua nel senso che mentre io ti raccontavo per me la comicità è è qualcosa di semplice tutti i giorni eh non pens non lo so se lui ce le ha dei pezzi ma non Vincenzo non l'ha mai visto parlare la buca è nata 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 non lo so però non l'ho mai sentito non li usa non lo so però però si rispetta ci ha girato un spunto la mia fidanzata diciamo che lui va più verso qualcosa di comunale vabbè vabbè che si è abbattuto in mezzanotte e vabbè ci sta ci sta ci sta vabbè cari pod ascoltatori sta con me bella sta parola alla bacia la treccanica ringraziamo sicuramente Maria per la disponibilità è un onore è stato è un piacere poi noi faremo sicuramente un secondo giro a distanza di tempo Maria ma che che cagnate niente cioè non me lo auguro però non lo sappiamo magari poi è diventato talmente famoso che non ci viene può essere io ti auguro questo no ma magari vedi a tu me e facciamo prima oppure siamo diventati talmente famosi noi che non mi invitano no che non siamo più qua tipo se abbiamo uno studio esatto diciamo che cazzo si sbagliano grillo effettivamente vabbè e allora abbiamo scuse per non invitarti solo se non vogliamo bambole bambole e niente ci diamo quindi ando fatto a Gesù ma che hai detto bambole 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 noi vi salutiamo e ci vediamo con il prossimo episodio di pod scriptum che sarà lunedì lunedì giusto alle ore 22 e poi forse state sul pezzo che forse ne introduciamo uno nel mercoledì ragazzi buonanotte buonanotte grazie